Buongiorno, sono qua Carlo Stemartin, sono un professore di ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino dove oltre al resto codirigo insieme a Marco Ricolfi il centro NEXT su internet e società. Il mio compito oggi è quello di introdurre una delle sei grandi sfide o grandi sfide globali, come le abbiamo chiamate, identificate dal Politecnico nel contesto di questa iniziativa didattica così importante, ovvero la grande sfida del digitale. Cosa intendiamo? Intendiamo che le tecnologie digitali che hanno cominciato a svilupparsi dalla metà del Novecento fino ad arrivare ad oggi rappresentano con la loro potenza, la loro capillarità, la loro importanza oggettivamente una sfida da diversi punti di vista, una sfida per le opportunità che presentano e che vorremmo cogliere, una sfida per le conseguenze, alcune delle quasi inattese o comunque indesiderate che dovremmo imparare a conoscere, a controllare e se è possibile eliminare. Quindi questa è la sfida mia personale di questa lezione di oggi. A valle di questa introduzione, voi studenti che state seguendo questa lezione, vi suddividerete in quattro corsi paralleli che affronteranno la grande sfida del digitale da quattro prospettive differenti, sempre con lo stesso approccio, perché tutti questi corsi hanno lo stesso tipo di approccio, quindi una parte comune, due co-docenti, eccetera, eccetera, però voi vi concentrerete su quattro specifiche angolature relative alla grande sfida digitale. Questi quattro corsi sono, e lo sapete perché vi siete già, come dire, iscritti a questo corso, ma riassumiamoli così abbiamo il quadro d'insieme. Abbiamo un corso intitolato Algoritmi e democrazia, il titolare è il professor Stefano Sacchi del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, il quale in dialogo con un ingegnere informatico ragionerà dell'utilizzo degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale, del machine learning e così via quando vengono applicati in un contesto di politiche pubbliche, quindi quando vengono per esempio utilizzati questi algoritmi per decidere chi ottiene o non ottiene un certo beneficio pubblico. Poi un secondo corso in lingua inglese è Cyber Security and National Defense, quindi Cyber Sicurezza e Difesa Nazionale tenute da un mio collega, il professor Paolo Prinetto, un ingegnere informatico, direttore del Laboratorio Nazionale Cini sulla Cyber Security, il quale con un co-docente, come tutti questi corsi sono strutturati in questo modo, appunto con due docenti, affronterà il tema specifico della Cyber Security, chiaramente che ha una base informatica importante, ma ha tante altre implicazioni che verranno esplorate in questo corso. Poi un terzo corso tenuto dalla professoressa Sara Monaci, Internet e Social Media, Tecnologie e Derive della Comunicazione in Rete, dove affronterà il tema generale della comunicazione in rete, in particolare quello dei social media, per poi affrontare alcuni temi più specifici relativi a quello che capita, lo sperimentiamo tutti quanti noi tutti i giorni su queste piattaforme, dal discorsi d'odio a molti altri fenomeni anche problematici su cui si è concentrata l'attenzione di tutti o di molti in questi ultimi anni. Infine un quarto corso verrà tenuto da sottoscritto, si intitola Politica e Tecnica, dove si parlerà in realtà di una delle relazioni più importanti della modernità, cioè del rapporto tra tecnologia e politica, quindi tra chi sviluppa tecniche in senso ampio del termine e chi invece decide in una democrazia, decide appunto democraticamente, ovviamente portando esempi e ragionamenti, informazioni relative alle tecnologie digitali, appunto perché siamo nella sfida digitale, perché io stesso sono un ingegnere informatico. Quindi a valle di questa lezione, poi il testimone, il microfono, l'aula passerà a questi otto docenti, quattro coppie di docenti che affronteranno appunto queste quattro specifiche angolature della grande sfida digitale. Ovviamente la grande sfida digitale è un tema gigantesco, noi affrontiamo queste quattro specifiche angolature, si potrebbero affrontare moltissimi altri temi e magari lo faremo nei prossimi anni. Allora, il tema appunto è enorme e quindi è evidente che un'introduzione come questa, quindi sono una lezione di tre ore, in parte registrata, in parte dal vivo, è soltanto un'opportunità per dare un assaggio della grande mole di questioni a cui facciamo riferimento quando parliamo della grande sfida delle tecnologie digitali. quindi in questo tempo toccherò alcuni punti pensati proprio per in qualche modo creare una base di partenza per poi approfondire questi quattro temi che vi ho presentato, quindi nessuna pretesa di esaustività, nessuna pretesa di fare come dire un grande affresco perché il grande affresco richiederebbe un numero di ore che ordini e ordini di grandezza superiore a quello che abbiamo a disposizione oggi. Allora, da dove partire? Non è facile partire a fare un'introduzione di questo tipo. Allora, ho deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito perché dovete sapere che in tempi recenti, in questi ultimi mesi, per aiutarmi a mettere ordine ai miei pensieri, ai miei stessi pensieri su questo argomento, io sono ingegneri informatico, ho cominciato a essere affascinato dai computer quando ero un ragazzino all'inizio degli anni Ottanta e poi col passare del tempo e soprattutto in questi ultimi vent'anni ho cominciato a pormi delle domande un po' più ampie, non soltanto strettamente tecniche ma anche appunto il rapporto tra tecnologie digitali e società e per mettere ordine a questi pensieri sempre più numerosi, a volte contraddittori, complessi e così via, ai quali appunto mi dedico in questi ultimi quasi vent'anni. Allora, di recente ho scelto una strada un po' inedita che ho trovato utile, oltre che forse un po' anche divertente ed è proprio questa strada un po' inedita che vorrei usare oggi per introdurre il tema. Inedita per un ingegnere come me che non sono molto abituato a fare che cosa? Beh, a fare la seguente cosa, ho provato a scrivere una specie di piccolo, di breve poema intitolato Le macchine digitali mi interessano. Ovviamente lungi da me pensare che si tratti di poesia, poesia è un'altra cosa, questa è una cosa pedestre fatta da un ingegnere, però è un modo nuovo per un nerd come me per ordinare alcuni concetti, per ordinare alcuni fatti, per trasmettere anche una sintesi di quello che penso di aver capito ormai in parecchi anni di studi, di confronti anche a livello internazionale, alcune osservazioni, anche alcune priorità in merito a un tema così grande e magmatico, così grande e magmatico da ogni tanto far perdere l'orientamento. Allora questa sorta di poema serioso e anche un po' programmatico a me è servito mettere le cose un po' in ordine e ovviamente per dire il mio punto di vista, quindi cosa interessa a me, la mia specifica angolatura, però spero che questo esercizio che è stato utile per me possa essere utile anche per voi per inquadrare il tema della sfida digitale, partendo un po' dalle basi per arrivare poi ai casi concreti che affrontiamo o che vi sarete anche voi chiesti se non quotidianamente spesso. Allora comincerei con questa sorta di poema programmatico, le macchine digitali mi interessano, è una cosa breve, la trovate facilmente anche online se la cercate, le macchine digitali mi interessano col mio nome, non sono neanche due paginette stampate in maniera ampia, larga. Quello che voglio fare è, provo, visto che è molto densa, provo a leggervi riga per riga, vi leggo una riga e poi la commento, vi provo ad accennare cosa ci sta dietro perché dietro a questa sintesi ci sono molte letture, molte riflessioni, molto studio, almeno così mi sembra e quindi leggo, commento, leggo, commento e poi proviamo a tirare le file. Ok? Cominciamo allora. Le macchine digitali mi interessano. Gli umani agiscono. Gli umani agiscono. Gli esseri umani hanno la caratteristica non soltanto di, come dire, esistere e di vegetare, ma anche di agire per soddisfare le loro esigenze primarie, quindi andare a caccia, poi coltivare, eccetera, eccetera. Quindi non a caso la nostra specie è stata ovviamente la nostra specie, l'Homo sapiens, ma è stata definita da molti studiosi anche Homo faber, cioè l'uomo che fa, l'uomo che costruisce, perché è una caratteristica fondamentale della nostra specie, addirittura delle specie che hanno preceduto la nostra, quindi quelle venute prima dell'Homo sapiens, Neanderthal e così via, andando indietro nel tempo. Gli archeologi ci restituiscono esempi di oggetti costruiti dall'uomo, anche solo per esempio per fini estetici, stanno retrodatando sempre di più questo punto di partenza dell'uomo che costruisce e in ogni caso le prime costruzioni concrete, utilizzabili per esempio per andare a caccia, risalgono a oltre un milione di anni fa, quindi molto molto prima dell'arrivo dell'Homo sapiens, quindi gli umani agiscono. Alcune delle loro azioni, come parlare, cantare, ballare, eccetera, non lasciano alcun artefatto materiale, quindi come tutti sappiamo alcune delle cose che facciamo anche importanti sono azioni in cui usiamo il nostro corpo, come appunto parlare come sto facendo in questo momento, cantare, ballare, eccetera, eccetera, che finita l'azione non è rimasto un oggetto, il termine tecnico utilizzato in filosofia e in altre discipline è l'artefatto, artefatto quindi qualcosa fatto dall'uomo e queste azioni sono azioni molto belle, molto importanti e fondamentali, ma non sono il tipo di azioni su cui concentriamo l'attenzione oggi o in generale quando si parla di tecnica. Anche se alcune di queste azioni richiedono della tecnica, per esempio suonare uno strumento si dice buono o migliore, buona o peggiore tecnica nel suonare lo strumento o anche soltanto giocare a tennis, quindi con un'accezione ampia il termine tecnica rientra anche in questo tipo di azioni, ma concentriamoci su altre azioni. Alcune delle loro azioni modellano atomi per portare in esistenza cose belle. Allora, alcune delle azioni degli umani modellano atomi, fermiamoci qua, modellano atomi. Allora, noi nel costruire oggetti, l'uomo faber che costruisce oggetti di tutti i tipi, non soltanto digitali chiaramente, anche una serce scheggiata, come li costruisce? Non li costruisce dal nulla, non crea nel senso biblico dal nulla. Noi umani creiamo perché dall'ambiente prendiamo atomi, quindi sostanze preesistenti, e usando questi atomi costruiamo, modelliamo degli artefatti, degli oggetti. Ok? Quindi questo è il primo punto di partenza, un punto di partenza dal quale potremmo andare in molte direzioni, per esempio, accenno soltanto, se noi prendiamo da atomi preesistenti, è inevitabile che sia così, non creiamo dal nulla, e li modelliamo, li trasformiamo, li fondiamo, li sintetizziamo, operiamo su di essi per creare poi oggetti, attifatti, plastiche, legno scolpito, silicio, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che c'è un rapporto strettissimo tra noi e l'ambiente, tra noi e il pianeta in cui viviamo. Ok? È una cosa banale se volete scontata, però il punto è che noi siamo in questo mondo e da questo mondo prendiamo, per nutrirci, ma soprattutto prendiamo per costruire l'enorme, strabiliante quantitativo di cose che gli umani hanno creato fin dalla loro esistenza e che continuiamo a costruire e a creare e a rimettere nell'ambiente quotidianamente miliardi, migliaia di miliardi di oggetti piccoli, grandi, complicati, eccetera, che prendiamo dall'ambiente gli atomi, li modelliamo e li rimettiamo in circo. Per quale fine? In questo verso, diciamo, per portare in esistenza cose belle. Quindi, un primo fine, che come vi dicevo prima risale a tempi molto lontani, nella storia profonda, sentiamo l'esigenza, noi anche in Neandertal, quindi non soltanto l'Homo sapiens, di plasmare atomi per creare oggetti per fini estetici, perché sono belli. Ok? Questa è la prima categoria e, come avrete tutti capito, questa è la categoria che abbiamo imparato col tempo a etichettare con la parola arte, in latino ars, che a sua volta poi ha la radice di tante parole che hanno a che fare con la tecnica. Pensate a artigianato, la radice è appunto ars. Ok? Quindi questa è la prima categoria. Seconda categoria. Alcune delle loro azioni, sempre gli umani al soggetto, modellano atomi per portare in esistenza cose che aiutano gli umani nella loro relazione col mondo spirituale. Altra categoria. Anche questa che risale nella profondità della storia profonda. Cioè, prendiamo atomi e li plasmiamo per creare oggetti che in qualche modo esprimono la nostra necessità, il nostro desiderio di dialogare, rappresentare, interagire con un mondo non necessariamente visibile o tangibile. Può essere il mondo dell'animismo, possono essere le tantissime altre religioni e gli umani, appunto, da moltissimo tempo, creano oggetti anche per questo specifico fine. Poi questo specifico fine, quegli oggetti per l'interazione con il mondo spirituale possono anche essere belli, spesso sono stati belli storicamente, lo continuano a essere, però hanno anche questa specifica funzionalità. Ok? Bene. Terza categoria, ci avviciniamo all'oggetto, non soltanto di questa introduzione, ma in generale al mondo politecnico. Alcune delle loro azioni modellano atomi per portare in esistenza cose utili. Ok? Quindi cose che servono a fare qualcosa tipicamente di tangibile, concreto. una selce scheggiata, arco e frecce, un giavellotto, un cacciavite, un computer, una telecamera, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Cose utili. Allora, badate che la parola utili è usata in senso tecnico, nel senso che non c'è una connotazione necessariamente positiva. Utile può anche essere una bomba atomica. Utile nel senso che ottengono un determinato effetto. Ok? Allora, questo verso, alcune delle loro azioni modellano atomi per portare in esistenza cose utili. Potremmo dire che il politecnico, non soltanto il politecnico, ma sicuramente un'università chiamata politecnico, è precisamente un istituto di educazione terziaria, quindi a livello universitario, che studia e insegna le tecniche, le tecniche più moderne, è stato dell'arte, ma anche quelle tradizionali, per portare in esistenza cose utili. Ok? Ponti, strade, computer, acquedotti, eccetera, eccetera, eccetera. E facciamo lato ingegneria, con tutte le varie suddivisioni dell'ingegneria, e lato architettura, ok? architettura, che con tutte le altre discipline, il design, l'urbanistica e così via. Bene, arriviamo a noi. Tra le cose utili ci sono le macchine digitali, dunque gli uomini agiscono, alcune azioni lasciano, non lasciano artefatti materiali, cose tangibili, non producono delle cose che poi rimangono nell'ambiente, sono evanescenti, sono effimere, spesso meravigliose, ma capitano e poi rimane solo la memoria di chi li ha viste, o qualche vibrazione nell'aria. Invece tante altre azioni producono oggetti, che poi tendenzialmente rimangono, in alcuni casi rimangono per tempi molto lunghi, ok? Che sia voluto o che non sia voluto. Allora, nella categoria degli oggetti che rimangono ci sono le cose utili, siamo concentrati su quello, e tra le cose utili, le macchine digitali, va bene? Allora, macchine digitali, volutamente ho usato un'espressione molto ampia, digitali, quindi che manipolano, che sotto sotto che fanno calcoli, ma facendo calcoli possono manipolare simboli discreti, lettere dell'alfabeto, pixel di un'immagine e così via. Insomma, il digitale, di cui alcuni di voi stanno facendo discipline digitali, avete iniziato a fare corsi di laurea digitali, ma anche tutti gli altri avete quotidianamente esperienza e inevitabilmente esperienza di cosa significa il digitale. Comunque, macchine che calcolano e manipolano simboli. E ho usato la parola macchine, perché sono macchine, ok? La macchina è il termine più generale, più ampio, dentro il quale ci stanno tanti tipi di macchine differenti, incluse quelle digitali, va bene? Sono macchine elettriche, quindi il digitale implica l'elettricità con la tecnologia che conosciamo noi adesso, quindi sono delle macchine elettriche, sotto specie macchine elettriche digitali, va bene? Bene, cosa diciamo su queste macchine digitali? Allora, leggo il verso. Le macchine digitali sono sempre più coinvolte, sia nelle azioni umane che non producono artefatti, la prima categoria che abbiamo visto, sia nelle azioni umane che portano in esistenza cose belle, spirituali e utili. Allora, la prima osservazione è che oggi, quindi 2022, ormai ventunesimo secolo avanzato, registriamo che le macchine digitali, nella loro corrente evoluzione, quindi sempre più potenti, sempre più piccole, sono sempre più coinvolte in tutte le azioni umane. Non è necessario, non è che è obbligatorio o che capiti sempre, però riscontriamo, registriamo che se ballo, suono, canto, prima categoria, se faccio cose belle, arte, se faccio cose spirituali, se faccio cose utili, il digitale in qualche modo c'entra, anche se il risultato finale non è una macchina digitale, ma perché anche solo banalmente uso le macchine digitali per fare queste altre cose, o anche nel caso più, se volete più, dove la connessione è la più flebile possibile, supponete che io stia danzando e questa danza è sempre più frequente che venga registrata digitalmente, quindi anche soltanto la danza in serie non è fatta come veniva fatta cento anni fa o mille anni fa, ma viene registrata digitalmente, oppure nell'addestramento della danza utilizzo il digitale come fonte didattica, per esempio. Quindi le macchine digitali sono sempre più coinvolte nell'azione umana, in tutti i tipi dell'azione umana. Seconda osservazione. Le macchine digitali sono sempre più incorporate in cose belle, spirituali e utili, che sono le tre categorie che abbiamo visto, ibridandole, trasformandole in, potremmo dire così un po', un po' inventandoci un termine, in cyber cose, in cyborg cose, ok? Quindi ci sono le macchine digitali in quanto tali, ma anche le macchine che non sono digitali si stanno digitalizzando, le stiamo digitalizzando, stiamo inserendo dentro. Prendiamo un esempio macroscopico, forse la macchina per eccellenza del XX secolo è stata l'automobile, così come quella del XXI secolo è, a mio avviso, lo smartphone. Nel Novecento è stata l'automobile, l'automobile fino a un certo numero di anni fa non aveva nulla di digitale a bordo e poi ha cominciato ad avere qualcosa di digitale e adesso ha molto di digitale, nel senso che adesso un'automobile moderna ha dozzine di circuiti integrati, microprocessori a bordo, che gestiscono vari aspetti del funzionamento dell'automobile. Questo è un esempio di un oggetto che non era affatto digitale, anche quando i computer esistevano già e poi grazie alla progressiva miniaturizzazione, l'abbattimento dei costi, l'aumento delle prestazioni, invece il digitale è entrato, ed è entrato potentemente dentro l'automobile, al punto che leggiamo sui giornali che in alcuni casi gli stabilimenti sono rallentati o addirittura chiusi perché mancano i circuiti integrati, i microprocessori che servono alla produzione di un'automobile per vari motivi legati in parte alla pandemia. Ma non soltanto gli automobili, tutti noi, tutti voi sapete benissimo di quanti oggetti che non erano digitali lo sono diventati perché hanno incorporato, hanno portato a bordo dei piccoli computerini, magari relativamente poco potenti, ma che aggiungono delle funzionalità evidentemente ritenute interessanti. Non a caso si parla sempre più spesso di smart qualcosa, i lampioni smart, le telecamere smart, eccetera, questa parolina seducente smart sta a indicare che lì è arrivato un computer, ok? Quanto poi sia smart l'azione che fa questo computer è tutta da discutere, però significa quello. Quindi un altro modo di dirlo è che si sta computerizzando il mondo, gli oggetti che erano anche in precedenza non digitali, si stanno digitalizzando. Andiamo avanti. Le macchine digitali sono sempre più fisicamente attaccate ai corpi degli umani, monitorando il loro stato organico e l'ambiente in cui sono immerse, influenzando il comportamento umano. Nel verso precedente abbiamo detto il digitale che va a ibridare oggetti, oggetti che magari appunto per moltissimo tempo, fino a quel momento, non erano mai stati digitali. Adesso invece stiamo dicendo del rapporto tra le macchine digitali e gli esseri umani. Allora, le macchine digitali, andiamo pezzo per pezzo, sono sempre più fisicamente attaccate ai corpi degli umani e con questo indichiamo il fatto che i computer nascono come grandi macchine costose, rumorose, che riempono un'intera stanza come i primi computer degli anni 40, 50, 60, sono diventati sempre più piccoli, sono arrivati a stare sopra una scrivania per cui si parlava e si parla tuttora di desktop, computer. Poi sono diventati sufficientemente piccoli da poterli mettere sulle ginocchia, laptop o notebook, grossi come un quaderno. Ora, come tutti sappiamo, i computer più diffusi al mondo e più utilizzati al mondo sono dei cosiddetti smartphone, quindi un oggetto che è qualcosa dei vecchi telefoni cellulari prima generazione, ma che di fatto sono diventati dei computer che incidentalmente fanno anche telefonate. Che caratteristiche hanno queste? che sono sufficientemente piccoli e leggeri da poterle portare sempre con noi e sempre con noi vuol dire sempre vicino al nostro corpo, in tasca, al massimo in una borsa o appoggiati poco lontano. Quindi questo è un esempio di un computer che si avvicina a noi, quindi non è proprio totalmente aderente al corpo, ma spesso lo è, però non c'è soltanto lo smartphone, per esempio ci sono gli smartwatch, quindi gli orologi da polso che hanno cominciato a diffondersi durante la prima guerra mondiale, quindi poco più di cento anni fa, meccanici per lunghissimo tempo e in parte ancora adesso, questo è un orologio meccanico per esempio, che invece diventano digitali e di fatto sono dei piccoli computer e quelli sì invece hanno la caratteristica di essere costantemente a contatto col corpo umano e quindi possono costantemente misurare il battito cardiaco e tanti altri parametri vitali, più passa il tempo più ne misurano ed è per questo che nel verso dico monitorando lo stato organico degli esseri umani e l'ambiente in cui sono immersi, quindi lo smartwatch, il mio smartphone e eventuali altre cose smart che ho addosso, misurano la luminosità ambientale, misurano il livello di rumore, misurano la velocità con cui mi sto muovendo e aggiungo e concludo influenzando il comportamento umano perché queste macchine possono dare indicazioni al possessore di questi oggetti modificandone il comportamento. Da tanti punti di vista un discorso ampio però penso che sia anche soltanto intuitivo se vi dico che lo smartwatch che avete in tasca modifica il vostro comportamento anche soltanto con le notifiche, con il fatto che vi arrivano informazioni sullo smartphone e vi fanno mentre camminate per strada bloccare di colpo e decidete andare da un'altra parte o vedere che sta arrivando il tram e quindi correre per non perderlo perché l'app vi dice che sta arrivando. Insomma c'è un flusso di feedback di interazioni tra l'essere umano e questi oggetti digitali vicino al proprio corpo che con impatti profondi che arrivano anche a livelli di astrazione più alti e cognitivamente più complessi del tipo le informazioni che leggiamo, che plasmano la nostra visione del mondo e che quindi modificano il nostro comportamento politico economico di altro tipo. Ok? Andiamo avanti. Le macchine digitali modellano come altre tecnologie in passato ma probabilmente con più pervasività e più intimità ciò che gli esseri umani percepiscono, pensano e sentono. Era quello che avevo cominciato a dirvi un secondo fa. Cioè non è la prima volta che delle macchine hanno un impatto su ciò che gli esseri umani percepiscono, pensano e sentono. Ok? Quello che argomento è che il livello di capillarità, di intensità e le modalità sono nuove con le macchine digitali. Facciamo degli esempi di macchine che hanno avuto un impatto o di tecnologie in maniera più, come dire, più corretta su ciò che gli esseri umani percepiscono, pensano e sentono. Beh, pensate alla scrittura. La scrittura è una tecnica, una tecnica rivoluzionaria, dirompente, degli scarabocchi sopra un foglio o un papiro o una pergamena che vengono interpretati da coloro che sanno leggere e con un processo sofisticato e meraviglioso interpretiamo questi segni sul supporto, questa tecnologia la interpretiamo e può avere un impatto eccezionale, gigantesco che tutti ben conosciamo su ciò che percepiamo, pensiamo, su come vediamo il mondo, sui sentimenti che proviamo e così via. Quella non è una macchina, è una tecnica, la scrittura, è pensata all'enorme cambiamento che c'è stato in questa tecnologia con l'invenzione della stampa caratteri mobili. Intorno a metà del Quattrocento Gutenberg in Germania inventa questa tecnologia, il numero di supporti di libri aumenta di ordini di grandezza, si stima che nei primi 50 anni dopo l'invenzione di Gutenberg vengono stampati in Europa, secondo le stime 8, 9, 10, 12 milioni di libri nel giro di 50 anni, cioè multipli e multipli di quanti libri fossero stati mai prodotti nei secoli, nei millenni precedenti. Bene, pensate all'impatto che ha avuto quella tecnologia su ciò che gli esseri umani percepiscono, pensano, sentono, l'impatto che ha avuto sull'umanesimo, l'impatto che ha avuto poi sulla riforma protestante con Lutero, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare a tempi più recenti e stavolta con delle macchine, pensate all'impatto che ha avuto la radio, pensate all'impatto che ha avuto le rotative ad elevata produttività che hanno permesso nella seconda parte dell'Ottocento di avere dei quotidiani che potevano essere stampati di notte, arrivare al mattino presto con prima migliaia, poi decine di migliaia, poi centinaia di migliaia di coppie. Quello è stato il primo mezzo di comunicazione di massa, una metropoli come Parigi si svegliava al mattino e c'erano decine e decine di quotidiani, alcuni dei quali con una tiratura strabiliante grazie delle macchine evolute che permettevano di fare delle stampe così numerose. Poi pochi decenni dopo la radio, tra l'altro oggi, scusate quest'anno, il 2022, esattamente cento anni fa nasceva la prima stazione radio negli Stati Uniti, quindi la radio esiste già da una ventina d'anni con Marconi, ma nasce la prima stazione radio, quindi una certa frequenza, assume una certa identità e comincia ad avere un palinsesto di trasmissioni, cento anni fa. Immediatamente si capisce la potenza di questo strumento e in quello stesso anno il presidente americano farà il primo discorso pubblico utilizzando la radio e poi la televisione, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri e quello che sostengo dunque, ripetendo il verso capirete meglio cosa intendo, le macchine digitali, smartphone, computer e così via, modellano come altre tecnologie in passato, ma probabilmente con più pervasività e più intimità ciò che gli esseri umani percepiscono, pensano e sentono. Quindi processo iniziato con varie tecniche e con varie macchine già da molto tempo, che però vede una nuova fase, soprattutto con lo smartphone. Sei miliardi e mezzo di persone con uno smartphone in tutto il mondo, la netta maggioranza dell'umanità con uno schermo che si accende e fa vedere cose, fa vedere immagini, fa vedere notizie, fa vedere suggestioni, fa vedere testi, eccetera. Ok? Andiamo avanti. Le macchine digitali stanno sempre più mediando il rapporto tra ogni essere umano e il resto del mondo. Allora, di nuovo, il pensiero va soprattutto allo smartphone, ovviamente anche al computer, al laptop, però soprattutto allo smartphone. Cosa intendiamo? Mediando il rapporto tra ogni essere umano e il resto del mondo, soprattutto dopo due anni di pandemia, lo possiamo dire o capire ancora di più. Nel senso che la mia interazione con l'ambiente in cui sono, pensiamo a Google Maps o altre mappe che hanno a che fare con l'ambiente in cui mi trovo, una app che mi dice le fermate solite che frequento se sta arrivando il mezzo pubblico, oppure app che mi dicono le previsioni del tempo per le prossime ore, oppure app per interagire con amici, oppure app per interagire con l'università che frequento, oppure app per comprare oggetti, per ordinare cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, intendiamo questo, intendo questo quando dico stanno sempre più mediando il rapporto tra ogni essere umano e il resto del mondo. Prima c'è un rapporto più diretto, magari più inefficiente, meno gradevole, eccetera, perché molte di quelle cose che avevo descritto sono anche delle comodità che ci fanno sicuramente piacere, però resta il fatto che c'è un mediatore, c'è qualcuno che si frappone tra me e vari aspetti del mondo e ogni volta che c'è un mediatore, un intermediario, tutta una serie di questioni si apre, ok? Se tra me e l'altra cosa o l'altra persona o l'altro servizio, eccetera, c'è qualcuno in mezzo, questo qualcuno in mezzo acquista un potere. Il corso che insegnerò è potere, politica e tecnica, quindi acquista un potere e quindi automaticamente si aprono una serie di questioni, perché questo potere può essere esercitato in maniera più corretta, meno corretta, a favore di qualcuno, a sfavore di qualcun altro, eccetera. Quindi le macchine digitali stanno sempre più mediando il rapporto tra ogni essere umano e il resto del mondo. Allora, un verso un po' più lungo. Le macchine digitali per la maggior parte non sono governate collettivamente. Due punti. La maggior parte degli umani infatti si limita ad utilizzare e viene utilizzata da macchine progettate e controllate da pochi. Ok? Questa è la prima frase di questo verso a più frasi. Mi fermo qua. Queste macchine digitali, in realtà come sostanzialmente quasi tutte le tecnologie che utilizziamo, nuove, vecchie, nuovissime, antichissime, eccetera, non sono governate collettivamente e cosa intendo? Che non decidiamo collettivamente come sono fatte. Quindi il tipico smartphone che abbiamo in tasca non abbiamo deciso insieme in qualsivoglia modo, si voglia decidere insieme se è questo oggetto così potente, così importante per le nostre vite ha o non ha certe funzionalità. La maggior parte di noi, la stragrande maggioranza di noi, si limita a utilizzare e questo inciso viene utilizzata, magari lo vedremo, lo approfondiremo più avanti, da macchine progettate e controllate da pochi. Qualcuno di voi, molti di voi state facendo un corso di laurea in ingegneria, potrebbe dire, io stesso posso dire, ma è normale che siano in pochi a progettarle. Sì, dal punto di vista strettamente tecnico è normale che siano in pochi a progettarle. Quello che tendiamo a dimenticare è che però, uno, potrebbero essere di più le persone che hanno voce in capitolo sul progetto. Per esempio potremmo collettivamente dire, ma un certo sensore tra i tanti che ci sono sullo smartphone è troppo invadente, troppo intrusivo, preferiremmo non averlo. Per esempio grazie agli strumenti messi a disposizione della maggioranza dalla democrazia, non capita. quindi questa potenzialità, questa possibilità non c'è quasi mai, ma soprattutto sono macchine controllate da pochi. Cosa intendo controllate da pochi? Allora qua alludo a un tema che ritroverete poi all'interno dei corsi che seguirete a valle di questa introduzione e che forse riuscirò ancora a toccare oggi stesso. Però, in estrema sintesi, che se noi andiamo a vedere chi è che veramente controlla questi dispositivi, ci accorgiamo che sono pochissimi attori che hanno un grande controllo su queste macchine, in particolare mi concentro anche per, non solo per la sua importanza, ma anche per comodità di presentazione sullo smartphone. Chi è che controlla gli smartphone? Vi dico una cosa, un dato fondamentale. Gli smartphone sono computer, i computer per funzionare in maniera, come dire, facile, di facile utilizzo, hanno un sistema operativo. Molti di voi avranno un computer con sopra Microsoft Windows, qualcuno di voi con il sistema operativo dell'Apple. Ebbene, lo smartphone è un computer, anche questi computer detti smartphone hanno dei sistemi operativi e questi sistemi operativi sono esattamente due. C'è un duopolio, la vasta maggioranza sono un sistema operativo chiamato Android, posseduto da Google, e poi c'è una minoranza che è il sistema operativo iOS, posseduto da Apple. Allora, chi controlla il sistema operativo ha un elevato livello di controllo di governo degli smartphone e sono due grandi aziende nordamericane, appunto Apple e Google. Un esempio concreto più o meno due anni fa, durante il primo lockdown, quindi stiamo parlando di aprile 2020, si fa un gran parlare di qualcosa poi caduto nel dimenticatoio per tanti motivi, o quasi nel dimenticatoio, cioè del tracciamento dei contatti supportato da una app sugli smartphone, che ho detto digital contact tracing, un'epidemia, da quando esiste il trattamento moderno delle epidemie, si cerca di fare il tracciamento dei contatti per risalire a chi le persone che sono entrate in contatti con una persona che poi si è rivelata positiva. Ebbene, si pensa correttamente che avendo quasi tutto un telefono in tasca, questo telefono possa essere utilizzato per fare almeno un ausilio al tracciamento dei contatti. Ebbene, i governi si tuffano, molti governi si tuffano su questa possibilità, anche in Europa, Francia, Germania, Italia, Inghilterra, perché sono alla ricerca di una soluzione, come dire, relativamente semplice e veloce a questo problema gigantesco inedito rappresentato dalla pandemia, e scoprono che non possono fare quello che vogliono, che non possono mettere sullo smartphone esattamente quello che hanno in mente. Possono fare solo quello che è permesso dal sistema operativo, dai due sistemi operativi, che a loro volta sono controllati da Apple e da Google. E quindi ci fu uno scontro molto duro tra alcuni governi e queste due grandi imprese, perché questi governi volevano fare certe cose, che queste due imprese decisero che non era desiderabile. Quindi non fecero le modifiche al sistema operativo richiesto e poi inoltre nel caso di Apple c'era anche il controllo dello store e quindi la possibilità di rigettare un'eventuale app governativa che non fosse in linea con i propri desiderata. Mi fermo qua perché sono temi che poi in parte espanderete anche altrove. Continuando con questo verso però, i stessi pochi, i pochi che progettano e controllano, che possiedono e utilizzano le macchine digitali più potenti della Terra, a cosa alludo con questo? Alludo al fatto che se ci chiedessimo dove stanno la potenza di calcolo, dove è la potenza di calcolo. E coincide sistematicamente con coloro che progettano o controllano i dispositivi. Quindi le cosette big tech, le grandi aziende tecnologiche, Facebook, Microsoft, Google, eccetera, Apple, che posseggono le grandi data farm che permettono di offrire i loro servizi con elevatissima qualità. Qua includeremo, includerei anche i governi, alcuni governi anzi, in particolare quelle statunitense, ma non solo, che posseggono in proprio grandi potenze di calcolo per fare sovveglianza di massa, per fare spionaggio, per fare attività di difesa e così via. Continuiamo. Gli stessi pochi che utilizzano e spesso possiedono i dati prodotti dai molti. quindi se ci chiediamo dove sta la potenza di calcolo, sempre i soliti, se ci chiediamo ma dove stanno i dati, sempre i soliti, non solo da loro. Sono sicuro che anche un grande operatore di telecomunicazioni, una grande banca, hanno grandi quantitativi di dati anche su di noi personalmente, ma di nuovo comunque concentrato. Un po' più ampio come spettro rispetto ai punti precedenti, però se andessimo a fare una mappa, ci fosse una mappa che, come dire, rende in maniera visiva dove sono i dati al mondo, vedremo che sono molto concentrati. E tutta l'architettura informatica del mondo contemporaneo è costruita per continuare ad alimentare questa concentrazione di dati. Ok? Se vedete, se ci pensate un attimo, il modo in cui il software è costruito, il nostro smartphone, il nostro computer, eccetera, è costruito sistematicamente per fare da imbuto e raccogliere i nostri dati e portarli al centro, cioè portarli tipicamente sui grandi fabbriche digitali di Apple, Google, Microsoft, eccetera, anche laddove sarebbe tecnicamente possibile, magari persino desiderabile, che i dati rimanessero sulle nostre macchine e fosse lasciata a noi la scelta di dire ma dove è che voglio mandarli. Molto spesso cediamo alla lusinga di mandarli al centro perché è più comodo, addirittura in certi casi paghiamo perché ce li tengano al centro, come i vari servizi di storage, di immagazzinamento dati. Ok? Bene, andiamo avanti. Come nascono le macchine digitali? Mi interessa. Adesso comincio in questi ultimi versi, sono tutti i versi in cui compare la parola mi interessa. Quindi se volete è la mia elencazione di punti di priorità, è incorporata in questa sorta di testo e la presento a voi perché sono sicuramente i miei interessi ma sono anche gli interessi di un ampio spettro di ricercatori, studiosi, intellettuali, politici che quando pensano al digitale concentrano l'attenzione proprio in queste direzioni. Quindi come nascono le macchine digitali? Mi interessa. Cosa intendo? Beh, chi decide di produrle, chi le progetta, quali elementi sono coinvolti nella produzione, chi produce tali elementi e in quali condizioni, chi fisicamente costruisce questi oggetti, li trasporta, li vende, li ripara e in quali condizioni fanno tutte queste cose, tutto questo mi interessa. Allora qui condensata in una manciata di parole c'è una vastità di progetti di ricerca, molti di quali perseguiti, nel senso molti di quali ci sono sociologi e tante altre figure che stanno proprio gettando luce su queste cose che io dico mi interessa. Io leggo e studio di queste cose, chiaramente non posso occuparmi di tutto quanto con la stessa intensità, ma mi interessa. Provo a dire qualche parola di commento su ciascuna di queste parole. Chi decide di produrle? Cosa intendo? Intendo dire che non è nella facoltà mia o vostra, dire ma ho una certa idea per una certa macchina digitale e adesso decido di produrle e verrà prodotta in migliaia, milioni di esemplari. Non è nella nostra facoltà. È nella nostra facoltà perché ci bisogna soprattutto di disponibilità economica importante. Questo vale per la tecnologia in genere. Io posso scrivere un piccolo software, voi anche, possiamo progettare un piccolo prototipino, ma dopodiché se volessimo fare qualcosa di più incisivo dovremmo necessariamente andare o a trovare la collaborazione di tantissime persone, e questo è complicato, oppure la strada principale nei sistemi come il nostro è avere disponibilità economica o convincere qualcuno a dire dammi i milioni di euro che servono per fare questa cosa con il mente. In ogni caso c'è bisogno di capitali. Quindi necessariamente chi decide di produrle, vi contendo dire su bassa scala, è un numero relativamente ristretto, sicuramente molto ristretto rispetto alla popolazione. Chi le progetta? Qua entriamo in gioco proprio noi ingegneri, quindi chi è che poi traduce questa potenziale idea in un oggetto ingegnerizzato che può essere poi prodotto in grande quantità, in maniera efficiente dal punto di vista economico, robusto, eccetera, eccetera. Quindi i progettisti, gli ingegneri, anche i designer, quali elementi sono coinvolti nella produzione, quindi cosa serve per produrli. Vi dicevo all'inizio, gli esseri umani, l'uomo faber quando vuole fare oggetti deve prendere dall'ambiente cose umili o cose rarissime per costruire l'oggetto, il legno, la cosa forse più antica e più umile, oppure terre rare. Quindi quali elementi sono coinvolti nella produzione? Una domanda importante perché una delle cose che è super interessante fare è di prendere uno smartphone e dire ok, dentro questo oggetto quali elementi della tavola periodica sono presenti? E a questo punto poi i passi successivi. Chi produce tali elementi e in quali condizioni? Sono elementi fisici appunto nella tavola periodica, dunque da dove arrivano? Alcuni sono molto diffusi, altri sono molto di meno. Chi produce tali elementi e in quali condizioni? Quindi chi produce amianto? Chi produce litio? Sono oggetti presenti in natura, tipicamente nel caso del litio per esempio sono delle miniere, dove sono queste miniere? Come viene estratto il litio in maniera tale che poi sia industrialmente utile? Argomento molto importante, il litio perché è l'argomento indispensabile, cioè l'elemento indispensabile per fare le batterie moderne che vanno nell'automobile elettriche, ma che vanno in una miriade di oggetti intorno a noi. E poi dico, quindi questo chiedermi che elementi ci vogliono, da dove arrivano, chi li produce, apre tutta come dire uno squarcio sui temi ovviamente ambientali, ma anche sui temi geopolitici, magari il 90% delle terre rare sono in questo momento prodotte dalla Cina e quindi è sostanzialmente quasi un quasi monopolio. Temi del lavoro, in quale condizioni vengono prodotti questi elementi? Quindi non soltanto l'impatto ambientale, ma anche l'impatto sugli esseri umani, per esempio ho saputo, si è visto in molti reportage giornalistici in televisione, che il coltan, che è una sostanza indispensabile per la produzione dei computer, viene, la regione ricca di coltan e il Congo orientale, dove tra l'altro è stato ucciso, ricorderete qualche mese fa, l'ambasciatore italiano, e a quanto pare è relativamente facile estrarlo da buchi nel terreno, dove spesso lavorano in condizioni pericolosissime non soltanto adulti, ma anche bambini. Questo è lo squarcio che ha per chiedersi chi produce tali elementi e in quali condizioni. E poi, pensando alle macchine, chi fisicamente costruisce, trasporta, vende, ripara le macchine digitali, quindi costruisce le fabbriche in cui vengono costruiti, le famose Foxconn per la Apple e così via. Chi trasporta queste macchine tipicamente vengono prodotte in Cina, in Corea, in pochi altri posti e poi trasportate tipicamente via nave, ma non solo via nave. E sono comunque degli esseri umani che prendono questi oggetti, li prendono, li imballano, li caricano sui container, li mettono sulle navi, li trasportano, li scaricano. Chi li vende? Nei negozi online? Chi ripara queste macchine? Il tutto questo in quale condizioni mi interessa. Vedete quale fascio enorme di temi di potenziali interesse, interesse intellettuale, da studioso, interesse politico, interesse ambientale, interesse economico. Quello che succede quando le macchine digitali smettono di essere utili mi interessa. Le macchine digitali, l'abbiamo detto all'inizio, sono macchine utili. Bene, come tutti sappiamo, a un certo punto smettono di essere utili, perché si rompono, perché non vale più la pena ripararle, perché diventano obsolete e ci costringono a smettere di usarle, perché non è più possibile fare l'aggiornamento di delle app o del sistema operativo, non funzionano più bene con alcuni servizi. Quindi le macchine digitali in generale potremmo dire tutte sono macchine con una vita relativamente breve. Quindi, visto che ne produciamo miliardi all'anno, gli smartphone più o meno stanno avendo un miliardo e mezzo all'anno, quindi anche soltanto di smartphone parliamo di un miliardo e mezzo di oggetti, che hanno una vita media, nel caso del smartphone, di circa tre anni. Bene, dove vanno? Che succede? Come vengono smaltiti? Vengono smaltiti da chi? In quale condizioni? Questo è un altro gigantesco tema, di nuovo ambientale, un tema di eventuale riciclo di alcune delle parti di questi oggetti, un tema anche geopolitico, perché molti di questi rifiuti finiscono in paesi poveri, che accettano questo carico di rifiuti, che hanno anche degli allenamenti tossici al loro interno, perché li paghiamo per prenderli e perché i loro poveri vanno, smontano e cercano di recuperare qualcosa che gli permetta di guadagnare qualcosa da viva. Ok? Andiamo avanti. Quello che fanno le macchine digitali mi interessa, quello che fanno, ma anche come, perché, a che prezzo, per chi, contro chi lo fanno mi interessa. Ora stiamo parlando delle funzionalità, quindi ho davanti a me una macchina digitale, una smartwatch, uno smartphone, e mi chiedo che cosa fa esattamente? Ora badate che questa domanda avrà una componente ovvia, tipo permette di fare telefonate, permette di usare messaggistica, eccetera, eccetera. Ma anche una componente meno ovvia, perché alcune delle cose, queste macchine sono macchine che hanno una componente opaca, fanno cose che non sono affatto chiare a chi le possiede. Quindi chiedersi cosa fanno queste macchine, in realtà vuol dire le cose ovvie, le cose esplicite, ma anche tutte le cose implicite, le cose che l'utente non ha contezza che stia capitando. Il fatto che ci siano dei sensori di luminosità ambientali su tutti gli smartphone, quindi che in questo momento il mio smartphone è spento, ma fosse acceso, rivelerebbe una intensa luminosità in questa stanza. Perfetto, questa informazione che viene registrata automaticamente, la stragrande maggioranza delle persone, uno non sa che lo sta facendo, ma più importante, e più insidiosamente, la stragrande maggioranza delle persone non sa chi usa questa informazione. Il mio telefono ha sopra moltissime app, tutte queste app hanno accesso e ce l'hanno in tempo reale all'informazione che in questo momento la luminosità ambientale è molto alta. Voi vi chiederete ma perché è importante saperlo? È potenzialmente importante saperlo, perché questa informazione apparentemente innocua può non essere innocua. Sapere che io sono una certa ora del giorno, magari riesco a localizzare e capire dove sono e sono all'elevato luminosità, può essere un'informazione che combinata con altra può essere tutt'altro che innocua per il sottoscritto. Quindi questa domanda apparentemente semplice, quello che fanno le macchine digitali mi interessa è meno ingenua di quel che sembra. E poi non solo quello che fanno, ma anche come lo fanno, perché lo fanno, a che prezzo lo fanno, per chi lo fanno contro chi lo fanno. Ok? Cinque cose che ciascuna apre grandi direzioni. Come lo fanno, cioè esattamente in quale modalità stanno facendo una certa cosa, e qua noi ingegneri possiamo dare una mano importante per cercare di capire come lo fanno. Perché lo fanno? Cioè una ragione originaria, ma se mettiamo il sensore di luminosità ambientale, perché così quando uno appoggia il telefono alla guancia spegniamo lo schermo e salviamo la batteria, quella tipicamente c'è una motivazione originaria di questo tipo, a cui però se raggiungono poi successivamente spesso altre, magari meno innocue o meno utili per l'utente. A che prezzo? Quindi aver introdotto questa cosa, questa funzionalità, a un prezzo di che tipo? E poi aggiungiamo fa questa cosa a favore di chi? Chi è che ne beneficia? Ovviamente la posizione ufficiale è lo facciamo per te utente, questa funzionalità è per te, ma non è sempre corretto, nel senso che in più di un caso è certo per noi utenti per un certo aspetto, ma per qualcun altro per altri aspetti, e in altri casi non è affatto vero che è per noi. La vera motivazione è perché serve a qualcun altro. E poi il contro chi lo fa, non mi interessa, mi serve, l'ho inserito in questo verso perché una componente fondamentale dei rapporti sociali è il conflitto, non c'è una armonia universale per cui in realtà siamo tutti concordi e tutti abbiamo gli stessi interessi. Ci sono certe cose che fanno le macchine digitali che sono contro i miei interessi, ma perché sono gli interessi di qualcun altro. La vasta sorveglianza, la vasta quantità di dati che vengono raccolte nel smartphone su di noi, su quello che guardiamo, su quando lo guardiamo, su come lo guardiamo, eccetera, eccetera, non serve a noi, serve in lagghissima parte a alcune delle aziende che ho già citato e a molte altre che utilizzano dei loro servizi per profilarci, tipicamente per vendere pubblicità. Allora, questo non è nel nostro interesse, lo è in maniera molto labile. Ok? Penultimo verso e andiamo alla conclusione. Quello che gli umani fanno con le macchine digitali mi interessa. Ci sono queste macchine digitali e noi utenti le usiamo, a volte in maniera imprevedibile, non prevista, sorprendente, vive a Dio, cioè questa componente di libertà. Mi interessa perché lo fanno, cioè come lo usano, a quali condizioni, con quali conseguenze, quindi mi interessa tutto questo. Quello che gli umani vorrebbero fare con le macchine digitali, ma al momento non possono fare, mi interessa tantissimo. Allora questo allude al fatto che le macchine digitali non le abbiamo progettate noi, non le governiamo noi, quindi permettono di fare certe cose e non permettono di fare altre cose. Ecco, quello che non fanno, ma che potrebbero fare, magari potrebbero farlo anche facilmente, mi interessa perché è il mondo digitale che non esiste, ma potrebbe esistere. Quindi qua entriamo nel campo di funzionalità che potrebbero essere utili per il singolo, oppure utili socialmente, che però per esempio non hanno mercato, quindi non c'è nessuno che ci vede un profitto e quindi non vedendoci un profitto in un sistema come il nostro non viene sviluppato, ma che invece potrebbe essere o per l'individuo o socialmente estremamente utile. E quindi il primo passo è chiederci ma cosa potrebbe essere? Quindi esercitare l'immaginazione tecnologica. Noi ingegneri, voi futuri ingegneri, è connaturato con il nostro ruolo quello di non soltanto di rispondere a chi ci dice progetta questo, ma anche di dire ma è che c'è, potrebbe anche essere così. Quindi esercitare l'immaginazione tecnologica, una cosa non esiste ma nella nostra testa immaginare che potrebbe esistere e poi magari avere l'opportunità veramente di progettarla e di portarla in esistenza. Ebbene questo è molto molto importante e interessante proprio perché c'è un buco, cioè le tecniche, le macchine digitali, le funzionalità delle macchine digitali che non hanno mercato, come si usa dire, che non generano profitto, quello è un buco del nostro sistema perché tendenzialmente non lo sviluppiamo anche visto il ruolo debole che ha lo Stato in questi ultimi decenni. Ok? Ultimo verso collegato col precedente. Quello che potrebbero fare le macchine digitali mi interessa moltissimo. Quello che le macchine digitali potrebbero fare diversamente, qualcosa che fanno già ma potrebbero farlo in maniera diversa o che potrebbero non fare affatto. Ok? Quindi qualcosa che fanno già ma che se facessero diversamente sarebbe meglio. Meglio per l'ambiente, meglio per certe categorie sociali, meglio per i diritti umani e in alcuni casi cose che fanno e che sarebbe meglio non facessero affatto. Esempio di attualità. Molti studiosi, molti attivisti, ormai da almeno un pari d'anni, sostengono che il riconoscimento facciale automatizzato, quantomeno in luoghi pubblici, strade, piazze, eccetera, eccetera, dovrebbe essere vietato. Quindi non regolamentato, vietato. Ok? Per tutta una serie di argomentazioni che non possiamo approfondire oggi. Questo è un esempio di tecnologia digitale fattibile, si fa, che però per una serie di ragionamenti che hanno a che fare con i nostri diritti civili, con le implicazioni, le possibili conseguenze deleterie, si arriva alla conclusione di dire, guarda, questa funzionalità è meglio che non esista. Ok? Quello che le macchine digitali non hanno mai fatto, ma che potrebbero fare, almeno in linea di principio, per l'umanità è il pianeta. Collegato a quello che vi dicevo prima, cioè esercitando l'immaginazione tecnologica, chiederci che cosa potrebbero fare le macchine digitali, che non fanno per i motivi che vi dicevo prima. Questo richiede competenza tecnica, perché la competenza tecnica ci permette di non fare voli pindarici senza collegamenti con la realtà, quindi conosciamo noi ingegneri elettronici e informatici, sappiamo cosa è tecnicamente fattibile e anche economicamente sostenibile, e quindi abbiamo una base, dati di realtà belli solidi, ma dopodiché li mettiamo a lavorare per andare in direzioni che fino a questo momento non sono state perseguite. Ok, questa sorta di poema un po' scherzoso, molto da nerd, come avete visto, si conclude qua, le macchine digitali mi interessano, si conclude qua. Spero che sia servito per ancorare il tema della riflessione sul digitale al più ampio tema della tecnica. Le macchine digitali sono macchine, quindi alcuni dei ragionamenti che dobbiamo fare sulle macchine digitali sono dei ragionamenti che vanno fatti sulla tecnologia in generale. Posto questo ancoramento, puoi provare a elencare, almeno accennare tutta una serie di questioni che ovviamente non approfondiremo né nel tempo che rimane in questa lezione per ovvi motivi, ma neanche nei quattro corsi, perché quello che vi ho elencato adesso, più o meno in questa ora che ci stiamo parlando, è la materia per un numero elevatissimo di potenziare i corsi, quindi nei quattro corsi che seguiremo affronteremo soltanto alcuni di aspetti a cui ho accennato con queste mie parole, però quantomeno spero di avervi dato come dire un assaggio di cosa si intende per grande sfide del digitale, grandi sfide potremmo dire del digitale, ho elencato una dozzina di possibili sfide dentro al cappello della sfida del digitale. Ok? Bene, fermiamoci qua per questa prima parte, passiamo dal vivo e poi dopo il passaggio dal vivo e dopo una pausa, nella seconda parte cominceremo, darò qualche elemento ulteriore, però su un solco ormai tracciato in questa prima parte. Grazie. Bentornati a questa introduzione alla grande sfida del digitale. Allora, dicevamo, il digitale, le tecnologie digitali come tecnologie chiave del ventunesimo secolo, abbiamo argomentato che ovviamente non è l'unica tecnologia importante in questo scorcio che stiamo vivendo storico, ma è argomento che è la tecnologia chiave del ventunesimo secolo perché oltre ad avere il suo dominio specifico di applicazione, di social media, di smartphone e così via, è una tecnologia abilitante perché va a innervare anche tutte le altre tecnologie, sia preesistenti, sia anche esse nuove come nanotecnologie, biotecnologie, eccetera. Cioè il digitale come trasversalmente la tecnologia che caratterizza le nostre attività produttive, la nostra vita personale, la nostra vita collettiva e così via nel ventunesimo secolo. È un fascio di tecnologie complesso che ha un impatto molto grande, che si prestano a tantissime riflessioni e nella prima parte ho provato a usare questo sorta di poema nerd, le macchine digitali mi interessano, per provare a fare ordine non soltanto su alcuni concetti fondamentali, ma anche su priorità, interessi, ovviamente con la mia specifica angolatura, ma credo con un appeal mi auguro molto ampio. E provando a riassumere quello che abbiamo discusso parola per parola nella prima parte, ho provato a riassumerlo in questo modo, giusto per avere ulteriormente chiari quali sono i nuclei di una riflessione, o almeno un certo numero di importanti nuclei di una riflessione su la grande sfida digitale. In generale il fatto che gli esseri umani producano artefatti, alcuni semplici, alcuni più complicati, quelli più complicati con diverse parti, li chiamiamo macchine, tra cui appunto le macchine digitali. Abbiamo rimarcato che le macchine digitali, che in maniera abbreviata ho indicato con l'acronimo MD, le macchine digitali abbiano un'influenza crescente su tutti i tipi di azioni umane, anche solo banalmente perché andiamo sempre in giro con uno smartphone e questo quindi diventa un aiutante, un mediatore di molte delle nostre azioni. Di come le macchine digitali stiano, oltre a essere macchine digitali a sé stanti, la regina, lo smartphone, diventano anche macchine digitali che si infilano, si incuneano, permeano altre macchine e altri oggetti e quindi come le macchine digitali stiano colonizzando anche oggetti che, anche molto semplici e anche molto tradizionali, di come le macchine digitali abbiano, siano, come dire, seguono il corpo umano, per esempio registrando dati sul corpo umano, battito cardiaco, tante altre cose, ma come anche lo possano influenzare il corpo umano, anche soltanto perché lo misurano, noi leggendo un dato sul nostro schermo cambiamo il nostro comportamento, la nostra posizione, la velocità con cui camminiamo, eccetera. E tra l'altro come queste macchine digitali misurino molte informazioni sull'ambiente in cui si trova il corpo umano, come per esempio la luminosità ambientale dello spazio in cui mi trovo in questo momento. Di come le macchine digitali siano sempre di più intermediari tra umani e il resto del mondo, in inglese si usa questa parola di difficile traduzione in italiano, gatekeeper, colui che tiene il cancello e che quindi decide chi entra e che esce da un recinto, da uno spazio. Quindi come le macchine digitali siano un po', potremmo anche usare questa espressione informatica, un'interfaccia, ma è un po' più di un'interfaccia, è un'interfaccia che ci può tenere fuori, è un'interfaccia che ci può includere quanto escludere. E di come le macchine digitali infine siano governate da pochi, che inoltre questi pochi possiedono anche la potenza di calcolo, anche noi abbiamo la potenza di calcolo, il nostro smartphone è anche un computer e quindi ha potenza di calcolo, ma incomparabilmente inferiore come potenza di calcolo rispetto al potenza di calcolo detenute da alcuni governi e da alcune grandissime aziende, che sono anche le stesse entità che hanno grandissimi quantitativi di dati, comparabilmente superiore ai dati che abbiamo noi come singoli. I temi di interesse, quindi passata la fase, come dire, descrittiva di informazioni, di osservazioni sulle macchine digitali, poi c'era un'ultima parte che vi ricorderete dalla parte precedente di questa lezione, sui temi di interesse, che cosa ci interessa, me personalmente, ma anche tanti altri studiosi, intellettuali che si occupano del digitale. Ci interessa la nascita, potremmo dire la nascita delle morte delle macchine digitali, chi decide di farle nascere, per esempio Steve Jobs che decide di creare l'iPhone negli anni precedenti al 2007, quando poi effettivamente nasce, chi le progetta queste macchine, chi le costruisce materialmente, fisicamente, con quali elementi, in quali condizioni, poi chi le ripara, perché se volete è un aspetto secondario, ma che potremmo scavare ulteriormente, il diritto al riparo, chi è che può riparare, la riparazione. Chi smaltisce queste macchine, che a miliardi diventano obsolete ogni anno e che quindi finiscono da qualche parte, e che succede quando finiscono? Quindi ecco perché nascita e morte delle macchine digitali. Poi queste macchine digitali che cosa fanno? Che cosa possono fare? Cosa fanno? Come lo fanno? Fanno delle fotografie e queste fotografie poi dove finiscono? Perché fanno certe cose e perché non ne fanno altre? A che prezzo fanno certe cose? Prezzo voluto, esplicito, ma in alcuni casi prezzi non previsti e che emergono soltanto nel corso del tempo, come il fatto di misurare l'umidità ambientale che nasce originariamente per spegnere lo schermo quando avvicino lo schermo al volto per fare una telefonata e che però poi abbiamo scoperto anni dopo che questa stessa informazione liberamente accessibile a molte app sul nostro telefono si possono poi dedurre quanto è grande l'appartamento in cui vivo, come è esposto, che piano è eccetera. Quello è un prezzo che non era previsto originariamente da chi ha messo quel sensore di luminosità ambientale dentro il telefono. a favore di chi fanno certe cose le macchine digitali? Tutti, non soltanto le risposte più ovvie e anche potenzialmente contro chi fanno certe cose le macchine digitali. Facciamo un esempio per non lasciarlo troppo astratto. Quando determinati lavori, cosiddetti lavori su piattaforma, vengono, quindi ingaggiano lavoratori e questi lavoratori in realtà si interfacciano non con degli esseri umani che dicono fai questo, fai quello, ma si interfacciano con un algoritmo e l'algoritmo quindi è uno schermo che dice vai a consegnare il tale pacco nel tale posto, nel tale momento, ebbene questi algoritmi possono anche decidere di estromettere dei lavoratori e non dare loro più occasioni di lavoro e quindi di guadagno e questo è un contro chi, ampiamente discusso in questi ultimi anni anche dai giuristi del lavoro, dai sindacati e da tanti altri. Poi ci interessa quello che noi umani facciamo con queste macchine digitali, come le usiamo, per che cosa le usiamo, quindi perché le usiamo, come le usiamo, quali condizioni, con quali conseguenze li utilizziamo, la macchina per eccellenza di cui abbiamo già parlato, che è lo smartphone, è nelle nostre mani e siamo noi che decidiamo di utilizzarlo in certi modi piuttosto che altri, oltre alla macchina stessa fare in maniera autonoma una serie di cose di cui a volte non siamo consapevoli. Questo è super interessante, ci sono varie direzioni di ricerca in varie discipline. E poi ultimo punto, vi ricordate, è chiederci a queste macchine digitali che cosa potrebbero fare, quindi quello che si potrebbe fare, perché in questo momento non fanno, quindi prendere atto di quello che fanno e dirsi ma in realtà potrebbero anche fare altro, però per qualche motivo non lo fanno, perché non lo fanno? Ci piacerebbe che lo facessero o anche al contrario quello che le macchine digitali già fanno e che in realtà ripensandoci meglio, avendo più dati a disposizione, eccetera, in realtà forse non dovrebbero fare. Se pensate a tutto il tema della tutela dei dati personali, quindi vengono raccolti moltissimi dati, queste macchine digitali, per esempio lo smartphone, tanto per continuare a fare il solito esempio, è una macchina che raccoglie una quantitativo strabiliante di dati, ebbene quello che emerge da questi anni di ricerche, di cause legali, eccetera, è che in realtà in certi casi la soluzione giusta sarebbe non raccogliere certi dati, non trattarli in maniera diversa, proprio non raccoglierli per tutta una serie di motivi, quella sarebbe la scelta giusta dal punto di vista degli interessi di molti, ok? Bene, quindi piccolo riassunto dei temi principali di questa chiave di lettura che vi ho proposto per mettere un po' d'ordine ai ragionamenti sulla grande sfida del digitale, non soltanto da un punto di vista strettamente tecnico, anzi come avete visto e soprattutto, sono dei ragionamenti dove la riflessione tecnica è molto importante perché ci permette di capire cosa è possibile, cosa non è possibile, cosa è verosimile, cosa è un volo utopico o distopico senza base nella realtà attuale, però è soprattutto una riflessione un po' più ampia, di dire sì va bene, noi ingegneri informatici siamo capaci a sviluppare certe cose, ma come avete visto è stato più un ragionamento ampio di dire va bene ma cosa ci sta intorno a queste macchine, da dove arrivano, dove nascono, dove finiscono, perché vengono usate così, perché vengono usate così, cosa potrebbero fare, eccetera, eccetera, tutta riflessione quindi su tecnologie e società che la cifra di tutto questo grande fascio di 24 corsi chiamato grandi sfide all'interno della quale c'è questa lezione introduttiva sul digitale che è affiancata da altre 5 lezioni introduttive sulle altre 5 grandi sfide che ha identificato il Politecnico, ok? Bene, facciamo ancora un po' di strada insieme, quindi aggiungiamo qualcos'altro in questa lezione introduttiva prima di poi lasciare la parola alle 4 coppie di docenti che si occupano dei 4 corsi che costituiscono questo filone del corso grandi sfide. Prima di farlo però una riflessione su come si parla di digitale. Io sono un ingegnere informatico quindi in qualche modo per motivi professionali seguo anche il racconto pubblico sui media di come si parla dei computer, di internet, dei social media e così via. Io ormai ho sufficientemente esperienza per motivi proprio banalmente anagrafici di età per notare un certo modo di parlare del digitale che mi sembra importante rendere esplicito, con voi anche, in maniera tale che se ne sia più consapevoli e per anche sviluppare i corrispondenti anticorpi che sono necessari a mio avviso. Di cosa parlo? Parlo del fatto che il discorso sul digitale, potremmo chiamarlo anche la narrazione che è una parola che va molto di moda e anche con dei buoni motivi, è strutturato a un date. Cioè nel corso di restiamo soltanto anche a questo secolo, quindi in questi ultimi 20 anni, se riprendessimo i giornali, televisioni, i siti di questi ultimi 20 anni, vedremo che quando si parla di digitale c'è stato un racconto a ondate. E queste ondate, ve ne ricordo alcune in questa slide, ormai in un discreto numero di anni fa si parlava tantissimo di cloud computing, il computing sulla nuvola, cloud e nuvola appunto, direi un po' più di 10 anni fa. E poi ci si è parlato tantissimo di big data, tutto quanto era big data, tutto quanto erano i grandi dati, tutto sembrava il centro di tutto. Poi in tempi più recenti si è parlato e si parla tuttora molto di blockchain, la catena blocking e di intelligenza artificiale tantissimo. Adesso un po' meno e faccio poi un esempio specifico delle auto a guida autonome che sembravano i propri imminenti, lì lì per uscire sulle nostre strade appena tre anni fa. E allora queste ondate arrivano tipicamente dalla Silicon Valley, quindi degli Stati Uniti, e arrivano e saturano la comunicazione mediatica, cioè per mesi e in alcuni casi per anni. Si sembra che la cosa più importante in assoluto di tutto sia quella cosa lì, cloud computing, poi big data, poi intelligenza artificiale e così via. Ne parlano i ministri, ne parlano i capi di Stato, ne parlano i rettori, ne parliamo noi ovviamente, figuriamoci, ne parlano tantissimo i giornalisti, eccetera. Quindi per un po' di tempo sembra che ci sia solo quello e bisogna subito assolutamente investire risorse, fare qualcosa, fare dei corsi, far sì che le aziende cavarchino, capiscano e cavarchino queste nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Però qualcuno mi potrebbe dire beh è naturale, c'è uno sviluppo tecnologico ed è normale che se ne parli. Sì, da un certo punto di vista sì, nel senso che ogni volta dietro a queste etichette c'è della sostanza tecnica, tecnico-industriale, tecnico-economica, eccetera, eccetera, c'è una sostanza tecnica. Quindi non sono soltanto delle ondate mediatiche. Torniamo un attimo alla slide di prima. Cloud computing, cosa vuol dire? Vuol dire che dei servizi che prima erano, tipicamente giravano sul nostro computer, o dei server locali, il server del politecnico, il server di un'azienda. Adesso ci sono dei fornitori di servizio che hanno tanti computer messi in delle apposite fabbriche, potremmo chiamare, sono delle fabbriche, e ci dicono ma non tenete voi dei computer a casa vostra, questo servizio ve lo possiamo offrire noi con maggiori funzionalità o quantomeno a un costo minore, affidatevi a noi e quindi Dropbox, Amazon Web Services, Azure di Microsoft e così via. Quindi c'è un dato tecnico, interessante, tecnico, economico, gestionale, molto interessante. Stessa cosa con tutto il resto. Ho qualche perplessità, devo dire, ve lo confesso sulla blockchain, non perché non ci sia degli affascinanti algoritmi dietro, ma sull'effettiva utilità pratica della blockchain, però diciamo pure che tutte queste cose dietro hanno un contenuto tecnico interessante, ma c'è anche molto marketing, a partire dalla scelta stessa delle parole. Chi ha scelto queste parole? A volte è un ricercatore, in alcuni casi non è un ricercatore d'accordo, quindi proprio esperti di marketing, in alcuni casi sono dei ricercatori con mentalità da marketing che usano delle espressioni, quindi cosa vuol dire da marketing? Vuol dire che qualcuno vuole vendere qualcosa, quindi sono delle espressioni delle parole seducenti, appunto pensate agli elaboratori sulla nuvola, cloud, nuvola, è un'espressione evidentemente non tecnica ed è evidentemente un'espressione, come dire, la nuvola è soffice, leggera, attraente come parola, quindi è un'espressione di marketing, ma pensate che anche big data che evoca in lingua inglese, evoca la riflessione degli anni 50 e 60 quando si parlava di big labor, i grandi sindacati, big government, i grandi governi che hanno vinto la seconda guerra mondiale e che poi hanno mandato l'uomo sulla luna e big business, quindi le grandi aziende, le grandi corporation. Un po' evocando questo retaggio linguistico si è inventato, qualcuno ha inventato big data, ma è di nuovo un'espressione da marketing, ma la stessa intelligenza artificiale è stata un'espressione coniata da ricercatori di un leggendario seminario, workshop che si è tenuto nel 1956, che durò circa un mese, quindi quando i calcolatori erano ancora relativamente pochi, molto meno potenti da adesso, questi ricercatori che si cominciano a interessare di temi che adesso etichettiamo come intelligenza artificiale, quindi come fare a tradurre in maniera automatica da una lingua all'altro, per esempio dal russo, siamo in piena guerra fredda, all'inglese in maniera automatica, usando i computer, queste macchine mirabolanti che esistono da pochi anni, ebbene sono dei ricercatori che inventano intelligenza artificiale, artificial intelligence, e scegliendo un'espressione seducente, perché intelligenza, che chiaramente è una parola molto importante, ricca di connotati, seducente, perché tutti vogliamo l'intelligenza, tutti vogliamo essere intelligenti noi, e tutti vorremmo essere in organizzazioni intelligenti, fare scelte intelligenti, avere una politica intelligente e così via, quindi coniare l'espressione intelligenza artificiale, e fu un'operazione di marketing che ebbe anche un notevole successo, perché dietro l'intelligenza artificiale poi arrivarono ingenti finanziamenti, soprattutto dal governo americano, per sviluppare quello che suggerisce un'espressione così seducente come intelligenza artificiale, arriva fino ad oggi. Quindi certo che l'intelligenza artificiale dietro anche dei robusti e importanti sviluppi tecnici, anche recenti, che motivano il fatto che, parliamo così tanto di intelligenza artificiale oggi, però è un'espressione appunto che ha delle caratteristiche di marketing, tant'è vero che una definizione universalmente condivisa di cosa sia l'intelligenza artificiale non c'è, ce ne sono diverse, sono pro e contro, ed è dovuto al fatto che è un'espressione non pensata per fini strettamente tecnico-scientifici. Ok? E quindi in realtà dobbiamo capire che queste ondate arrivano, dietro c'è, o alla base c'è un contenuto tecnico, ma c'è anche qualcuno che vuole vendere qualcosa, qualcuno che vuole vendere prodotti e servizi, è totalmente legittimo, le grandi imprese tecnologiche, le grandi imprese di consulenza e a volte ci sono anche elementi speculativi, speculativi in che senso? Che si costruisce un'ondata mediatica, si crea una grandissima enfasi e poi c'è chi può profittare anche così a breve termine di questa speculazione, nel senso che incassa qualcosa e poi ne esce prima che la bolla si sgonfi. Un esempio soprattutto per restare concreti, le automobili a guida autonoma. Allora questo è lo screenshot di una pagina su Wired, che è un po' la rivista, qualcuno la chiama la Bibbia della Silicon Valley e anche dell'entusiasmo per le tecnologie digitali che ha gonfiato queste ondate mediatiche, questo è dell'ottobre del 2018, quindi siamo di poco più di tre anni fa e quando c'era il picco dell'attenzione per le macchine a guida autonoma, questa era una specie di guida appunto alla macchina a guida autonoma, sembrava che le macchine a guida autonoma fossero letteralmente imminenti, quindi si diceva beh ormai dobbiamo tutti investire rapidamente perché la tecnologia è matura, Elon Musk le annunciava come fa spesso lui a tambur battente sarebbero state disponibili, ma quell'ondata mediatica ha costruito un'aspettativa in quel periodo, quindi appunto appena tre anni fa, parliamo proprio di ieri, come se fossero imminenti. Bene, passa esattamente un anno, ottobre 2019, l'Economist, che comunque è un po' di antenne sensibili per capire dove vanno le cose e dopo appena un anno, quindi l'ondata in realtà è ancora in corso, dice le auto a guida autonoma sono bloccate nel traffico, facendo un gioco di parole come spesso fanno loro nei loro titoli e nel sottotitolo dice date la colpa al hype, alla fuffa, al marketing di Silicon Valley e ai limiti dell'intelligenza artificiale. Cosa era successo? E questo articolo lo riconosce, dice era successo che in realtà guidare una macchina in un ambiente urbano, in città complicate come molte città europee, anche in giro per il mondo, è complicato, è complicato. È così complicato che uno esperto citato, uno che lavora, uno degli esperti guida che forse lavora tuttora per Google, dice le macchine effettivamente guida autonoma in un ambiente urbano complesso, con i bambini che attraversano la strada, il cane che corre, la palla che attraversa, tutte le cose che possono capitare, come tutti sappiamo è un ambiente complesso, quindi non un ambiente di laboratorio, neanche un ambiente come dire fortemente limitato, lui dice appariranno gradualmente nel corso dei prossimi dei 30 ai 50 anni. Quindi passiamo da le macchine autonome sono imminenti a spostarle a tra una o due generazioni. Allora anche in virtù della mia età consentitemi di dirvi quando qualcuno vi dice che una certa tecnologia sarà disponibile tra 30 anni, vuol dire che siamo ancora in altissimo mare, sono fatti magari degli sviluppi anche importanti, ma che la tecnologia è proprio lontana e quindi per quello che riguarda la nostra vita, voi di meno perché siete molto giovani, per me un po' di più, la nostra vita, se tu vuoi mi raccontate di qualcosa che capitale tra 30 e 50 anni è proprio lontano, la stessa cosa spesso è quando si parla dell'energia nucleare a fusione, che se riuscissimo a realizzare in maniera economicamente sostenibile risolverebbe un problema cruciale della nostra civiltà che è quello energetico, anche lì da quello che capisco da totale divettante è spostato, si viene costantemente spostata nel futuro perché i problemi da risolvere sono ancora molto grandi e quindi la sua effettiva messa in campo non è imminente, diciamo così, ok? E probabilmente esistono altri esempi di altre tecnologie che appartengono a questa categoria di ambiti in cui si sono fatti degli sviluppi, si continuano a fare degli sviluppi, ma l'effettiva messa in campo è ancora lontana. Andiamo un pochino avanti, dicembre 2020, quindi ancora un anno dopo e Uber, Uber che era stato al centro dell'ondata mediatica 2018, Uber diceva no no adesso continuiamo noi stessi a sviluppare l'autoguida autonoma e così eliminiamo questo problema dei guidatori che tanti governi in giro per il mondo creano dei problemi dicendo che i guidatori li trattiamo male, risolviamo il problema alla radice, macchina guida autonoma e arrivederci ai guidatori. Ebbene, Uber alla fine del 2020 vende la divisione che aveva creato per lo sviluppo di autoguida autonoma. Cioè Uber, nonostante le sue tasche profondissime, dice è troppo lontano, è troppo costoso, lasciamo perdere, ci teniamo ai guidatori umani. ok? Questo è come esempio specifico della dinamica che vi ho raccontato. Ma col passare degli anni mi è venuto un altro sospetto. Queste ondate hanno anche un altro effetto collaterale che sicuramente non è evoluto, quindi non è che ci sia un grande complotto mediatico, però un effetto collaterale da indurre quasi tutti, noi stessi ricercatori, ma sicuramente i politici, sicuramente i media, eccetera, a trascurare altri aspetti del quadro complessivo del digitale, che non sono la cosa sexy, divertente di cui tutti parlano, tipo la blockchain, intelligenza artificiale, big data e così via, ma che ciò nonostante sono importanti. e questo è un problema, perché va benissimo parlare di intelligenza artificiale, gli sviluppi di questi ultimi anni sono straordinari in certi specifici ambiti e quindi bisogna parlarne, investire, eccetera, ma ci sono anche altre cose importanti e queste cose importanti rimangono sotto il radar, rimangono sotto il radar e questo invece è un problema. Allora diamoci come obiettivo noi ricercatori, voi studenti, i giornalisti, i decisori politici, ma in generale qualunque cittadino che abbia a cuore la collettività, dare un obiettivo generale che si applica adesso al digitale, perché stiamo parlando di digitale, ma che si dovrebbe applicare a tutto, cioè diamoci gli strumenti per leggere la realtà, immuni alla propaganda, perché un altro modo con cui potremmo chiamare marketing è propaganda, e seguendo la nostra agenda, dove andiamo per propria agenda, beh a seconda dei contesti potrei dire, ma qual è la mia agenda di professore universitario del Politecnico di Torino? Mi propongono una certa tecnologia educativa, sì, me la propongono dicendo cose mirabolanti, ma io professore del Politecnico, la voglio, non la voglio, quali sono i pro, quali sono i contro? E poi potrei dire, prendere il cappello di decisore politico del Politecnico, dire, ma per il Politecnico come istituzione? Quali sono i pro e i contro? Che cosa voglio? E poi salire, ministro dell'università, Italia, Europa, quindi le agende possono essere diverse e non necessariamente allineate, però a seconda del cappello che uno indossa, dire, ma come stanno esattamente le cose? Punto numero uno, cioè togliamo tutta la fuffa, togliamo il marketing e andiamo direttamente al cuore delle cose, per capire realisticamente, concretamente di cosa stiamo parlando e poi a quel punto poter valutare e dire, bene, questa nuova cosa che emerge, il 5G, l'intelligenza artificiale e così via, mi serve, non mi serve, in che condizioni mi serve, eccetera, questo vale per tutto. Quindi quello che vi sto dicendo è, potrebbe essere un obiettivo intellettuale, civile, trasversale, ma ora stiamo parlando di tecnologia digitale e mi sembra importante rimarcarlo, proprio per l'elevato grado di dinamiche mediatiche che riguardano la sfera pubblica quando si parla di digitale. Ok? Quindi cerchiamo di andare, va benissimo le narrazioni, ma cerchiamo di decostruirle, di acquisire una distanza critica. Ok? Una volta, e forse capita ancora da qualche parte adesso, si insegnava ai ragazzi e le ragazze delle scuole superiori a leggere i giornali, quindi a dire, ti compare davanti la prima pagina di un quotidiano e acquisire gli strumenti per decodificare quegli insieme di simboli neri su sfondo bianco e di fotografie che compongono la prima pagina di un quotidiano. Quindi che giornale è, qual è la proprietà, chi è il direttore, avranno un'agenda, legittimamente un'agenda, perché mettono in prima pagina queste e non qualcos'altro e così via. Stessa cosa si potrebbe, si faceva una volta per la televisione, quindi prendiamo un qualunque Tg e chiediamoci telegiornale, chiediamoci questi 30 minuti come sono strutturati, in che ordine sono gli argomenti, perché sono quegli argomenti e perché non sono altri argomenti, eccetera, eccetera, insomma le cose che forse anche qualcuno di voi ha fatto a scuola e questa fondamentale capacità che è indispensabile per essere cittadini non totalmente manipolati dalle informazioni che ci vengono impartite prevalentemente dagli schermi, stessa cosa farlo per quello che riguarda il digitale. Quindi è normale che ci sia una narrazione, è normale che ci sia del marketing e è anche normale che ci sia della propaganda e noi diamoci gli strumenti più possibili e efficaci per filtrare, per filtrare, costruire, avere una distanza critica, ok? Una categoria importante che ho trovato utile, personalmente utile, che propongo a voi per ragionare di nuovo di digitale, ma anche di tante altre cose, ma adesso stiamo parlando di digitale, è la categoria del potere e quindi parlando di digitale, del potere digitale, cosa intendo per potere digitale? Innanzitutto cosa intendiamo per potere? Per potere intendiamo la facoltà che possiede un'entità o degli individui di far fare agli altri ciò che essi vogliono, questi altri non vorrebbero fare X, ma io posso farglielo fare, con le brutte, con le cattive, con la seduzione, con l'incoraggiamento, con il convincimento, oppure forzandolo, concretamente vorrei fare una certa cosa, ma quell'app non ha la funzionalità, perché deliberatamente non è stata messa, quel telefono non può fare una certa cosa perché non è stato messo, quindi ti impedisco di fare una cosa perché non te la metto proprio nel software, perché quella è una forma di potere. Quindi la categoria del potere è molto materiale, è molto, e quindi ci aiuta a una lettura realistica della realtà al di là delle narrazioni. E il potere, di questa prima parte del ventunesimo secolo, è un potere che potremmo dire di digitalizzazione di tutto, e la parola che viene utilizzata, di nuovo una parola da marketing, è la parola smart, quindi smart è brillante, intelligente, e quindi sta appiccicata proprio a livello di marketing. La parola smart ha tanti altri oggetti e situazioni per dire, guarda, diventa molto più attraente, smart phone, smart glasses, smart watch, tipicamente sono tutte cose in lingua inglese, che però sostanzialmente vuol dire, un po' come abbiamo già visto nella prima parte, la computerizzazione di tutte le macchine digitali che invadono tutto, che sono macchine digitali a sé stanti, gli assistenti domestici, lo smart watch, oppure macchine preesistenti o oggetti preesistenti come gli occhiali che diventano smart, ok? Quindi appunto potremmo dire che dovessi cogliere nel poco tempo che abbiamo a disposizione in questa lezione introduttiva, poi chi di voi seguirà il mio corso sentirà ulteriori riflessioni in questa direzione, potremmo parlare di una computerizzazione del mondo. Il mondo, gli oggetti vengono computerizzati, potrei anche aggiungere, cosa che non c'era nel poemetto nerd, gli spazi vengono digitalizzati, quindi telecamere, virgolette, smart in giro per le strade, che possono fare riconoscimento facciale, o dirmi in questo momento in corso Ducchi del Bruzzi sta passando una persona più o meno alta 1,80 m con una giacca rossa, quindi se non proprio riconoscimento facciale comunque funzioni avanzate di riconoscimento, quindi la città diventa computerizzata e infatti si parla di smart city, gli ambienti di lavoro possono venire computerizzati, i cassonetti dell'immondizia possono venire computerizzati, insomma globalmente potremmo parlare di una computerizzazione del mondo per svariati fini, per vendere prodotti, per fare sorveglianza, per misurare tantissimi valori, per raccogliere dati di tutti i tipi, eccetera. Allora, questa computerizzazione del mondo un po' l'abbiamo già visto analizzando riga per riga, le macchine digitali mi interessano, le domande che pongo sul tavolo e che in parte non tutte, ma alcune vedrete nei quattro corsi di questa sfida è fatta da chi, chi è che la sta facendo questa computerizzazione del mondo, fatta in che modo, a vantaggio di chi? Sì, non soltanto le cose che trovate nelle brochure, la smart city a favore dei cittadini e bla bla bla, ma anche altri che se ne avvantaggiano e che sono meno visibili e con quelle conseguenze? Un problema, forse il problema, ma sicuramente uno dei problemi cardini della riflessione sulla tecnologia, quindi di ciò che fa l'uomo producendo artefatti, macchine e sistemi e quali sono le conseguenze, conseguenze a breve termine, conseguenze a medio termine, conseguenze a lungo termine, le conseguenze sull'ambiente e siamo tutti parlando di riscaldamento climatico, le conseguenze sulla collettività, ci chiediamo se i social media non stiano minando la democrazia, minando il vivere collettivo, quindi le conseguenze, quali sono le conseguenze di questa ampia diffusione della tecnologia X, elettricità, automobile e in tempi più recenti appunto smartphone, social media, eccetera. Allora, parlando di potere digitale, distinguiamo tra potere del digitale e poi potere sul digitale. Cosa intendiamo con potere del digitale? Parliamo soprattutto delle conseguenze del digitale, cioè il digitale, la tecnologia ha delle conseguenze e quindi potremmo appunto parlare del potere che hanno le tecnologie digitali, va bene? E allora da questo punto di vista ormai sono numerosi anni che ricercatori in tantissimi ambiti, sociologia, antropologia, economia, informatica, scienze politiche e così via, si chiedono le conseguenze delle tecnologie digitali sul pianeta. I dispositivi digitali sono, probabilmente sono migliaia di miliardi, dai microchip agli smartphone, ai computer più grandi, eccetera. Ovviamente hanno un impatto sul pianeta, sia perché li dobbiamo costruire utilizzando risorse naturali, sia perché poi vengono a miliardi di buttati nell'ambiente. E quindi questa è una categoria importante. Sui lavoratori, vi ho fatto l'esempio dei lavoratori delle piattaforme, che è l'esempio forse più attuale, ma ci possono essere tantissimi altri esempi. Altro esempio, in epoca di pandemia e di confinamenti si è lavorato molto online, lavorando spesso da casa. Il cosiddetto smart working, un altro uso della parola smart molto criticato, perché lavorare a casa dal tinello di casa propria non è esattamente smart, però ci siamo capiti. Ebbene, il lavorare sulle piattaforme vuole anche dire che se migliaia di lavoratori lavorano in una certa azienda o anche al Politecnico utilizzando una piattaforma, per esempio Microsoft Teams o ce ne sono tante altre, lì c'è una raccolta dati sui lavoratori che non c'era prima. E questa può avere le sue utilità, ma può avere anche i suoi profili critici. Sui rapporti internazionali si è molto parlato del digitale tra Cina e Stati Uniti, se ne parla tuttora, quindi la lotta sull'intelligenza artificiale tra Cina e Stati Uniti, l'impatto sulla democrazia, quindi l'attribuire ai social media, ha torto ragione, le ricerche sono ancora in corso, la Brexit, le elezioni di Trump, insomma tipicamente le cose che non piacciono si dà la colpa ai social media, magari anche con una base di ragione. Sui rapporti interpersonali, quindi l'utilizzo così intensissimo dello smartphone, che rapporti può avere in positivo e in negativo? sulle famiglie, tra fidanzati, tra mariti e mogli, tra amici, sul benessere psicologico, quindi come si era chiesti per decenni sull'effetto psicologico e sociale della televisione, che lo tendiamo a dare per scontati e che tra l'altro è sempre lì e ha sempre un impatto molto grande su di noi, però le stesse domande ormai da svariati anni ce le si pone relativamente alle tecnologie digitali. Sulle diseguaglianze, le tecnologie digitali, su questo grandissimo tema della contemporaneità che è la diseguaglianza, le diseguaglianze, che impatto hanno? Le favoriscono? Le attenuano? Se fossero diverse potrebbero attenuarle? Sull'informazione, tutti noi penso siete consapevoli del fatto che in questi ultimi anni in Italia il crollo del numero di vendite dei quotidiani è un crollo precipitoso di vendite e non compensato, compensato soltanto in parte dall'aumento del consumo online e questo ha delle conseguenze. Come cambia l'informazione? Come cambieranno? Come cambierà il giornalismo? Esisteranno ancora queste entità chiamate giornali? Saranno soltanto i giornalisti che lavoreranno come freelance? Cosa capiterà? È una grandissima trasformazione in costo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo tipo di domande sono un tipo di domande dove sostanzialmente dei studiosi appunto di settori molto diversi tra loro studiano la realtà, spesso nella realtà sociale oppure appunto anche ambientale e documentano, cercano di spiegare, cercano di dire è vero o no che la Brexit è stata decisa da Cambridge Analytica e Facebook ed è uno studio sul campo, raccogli dati, interviste le persone e così via. Quindi se volete lo studio del potere del digitale è uno studio ex post, le cose sono già capitate e gli studiosi, come fanno moltissimi studiosi, discutono di gettare luce su che cosa è effettivamente successo. Ok? Fantastico, questo è tutto un film di ricerca e sicuramente incontrerete almeno alcune di queste cose nei corsi che seguono e magari ancora ulteriori altri corsi che farete nel prosieguo dei vostri studi. E questo elenco è totalmente non esaustivo, avrei potuto continuare ancora molto lungo. Ma giusto per darvi un'idea di cosa intendo del potere del digitale, le conseguenze del digitale. Poi un filone molto meno battuto, che mi sta molto a cuore, che affronterò insieme al mio co-docente nel corso che tengo, politica e tecnica, è il potere sul digitale. Abbiamo già toccato un po' nel poemetto nerd, cioè chi controlla il digitale? Chi è che decide i prossimi smartphone che funzionalità avranno? Chi decide che funzionalità avranno le prossime versioni dei sistemi operativi? delle app più importanti? Allora, queste domande sono domande molto importanti, perché se il digitale ha un impatto così grande sul mondo, chi controlla il digitale ha ovviamente un grande impatto sul mondo, ok, transitivamente. Quindi chi controlla le tecnologie digitali, questo è un po' meno, anzi parecchio meno studiato, però appunto un tema fondamentale. Anche perché implicitamente al momento in cui diamo un po' di elementi per capire chi controlla le tecnologie digitali, io avevo già un po' risposto a quel poemetto nerd, pochi. I sistemi operativi sono un duopolio, nell'ambito del desktop è un monopolio, è un duopolio la vendita dei microprocessori, chi vende microprocessori potrebbe andare avanti così, chi produce i smartphone al mondo sono poche aziende, quindi vi ho già detto sono pochi, solleva abbastanza naturalmente, almeno per chi ha una certa mentalità, il chi dovrebbe controllare le tecnologie digitali. Perché se diciamo che le tecnologie digitali hanno un grandissimo impatto sul mondo e persino sul pianeta, beh, almeno se crediamo alla democrazia, ci riguarda il chi le controlla, perché chi le controlla appunto ha un grande potere su tutti noi, sulla nostra collettività, sulla democrazia e un grande impatto sul pianeta. Bene, in questa introduzione abbiamo poco tempo per cui inevitabilmente vi faccio delle sintesi che ci vorrebbero decine di ore per argomentare, documentare e spiegare in dettaglio, ma io vi presento questa sintesi, chiaramente colorata dai miei interessi e dalla mia esperienza, dai miei punti di vista e rimango a disposizione sia per rispondere io a eventuali dubbi o domande che potreste avere, ma ovviamente sono anche questioni che riprenderete con i docenti dei corsi che seguirete a stretto giro e quindi potrete, spero che vi rimangano in mente queste questioni e poi magari alimenteranno il dialogo che avrete con i vostri docenti, oltre a tutte le altre cose sicuramente super interessanti che aggiungeranno loro dalla loro specifico angolatura e dalla loro esperienza, dal loro punto di vista. Allora, la mia sintesi personale, volendo concludere questa introduzione al digitale, è che, come vi anticipavo, c'è una progressiva computerizzazione del mondo, quello che vi aggiungo è portato avanti in larga parte qui in Europa, in Occidente, da alcune grandissime imprese statunitensi che tutti conosciamo, Apple, Google, Microsoft, Amazon, eccetera, eccetera, in maniera fortemente centralizzata. Quindi qua aggiungo due elementi rispetto al mio discorso fino adesso che è stato un discorso dove non facevo, se non negli esempi, nomi e cognomi. Quindi chi computerizza il mondo, computerizzazione del mondo, soprattutto alcune grandissime imprese americane, quando dico alcune grandissime intendo le imprese che sono quelle note, le fracosette GAFAM, Google, Apple, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft, GAFAM, che sono grandissime, cito un dato eclatante, come capitalizzazione di borsa, cioè quanto valgono in borsa e queste aziende hanno un valore di borsa che si traduce in cifre che non hanno precedenti nella storia del capitalismo. Cioè, se 15 anni fa le grandi imprese mondiali erano molto più novecentesche, General Electric, Exxon Mobil, e così via, ed quotavano in borsa centinaia di miliardi, e adesso queste imprese sono un ordine di grandezza più grandi perché sono grandi trilioni di dollari, quindi migliaia di miliardi. e tra l'altro con una fortissima crescita proprio durante questi due anni di pandemia, perché era così evidente la centralità di Google, Microsoft, eccetera, per mandare avanti il lavoro, la didattica e così via, che il loro valore in borsa è cresciuto moltissimo. Quindi grandissime da quel punto di vista, grandissime per competenze tecniche, grandissime tanti, insomma, da numero di utenti che ingaggiano tutti i giorni, numero di dipendenti in realtà è limitato, c'è Amazon che ha moltissimi dipendenti, le altre molto meno. Infatti, specifico in questa slide, è un vantaggio acquisito da queste big tech, come vengono anche chiamate statunitensi, che è un vantaggio economico, appunto, tasche molto profonde, è un vantaggio di know-how tecnico, ovviamente, sono loro che portano avanti lo stato dell'arte tecnologico in ambito digitale, è un vantaggio di dati, nel senso che queste aziende che hanno minimo 15 anni di vita, penso Facebook, o quasi 50, come Microsoft, hanno un enorme vantaggio di dati perché hanno accumulato nella loro attività, prendiamo l'esempio di Google, un numero totalmente stratosferico di ricerche su internet, quindi Google non ha soltanto un algoritmo molto sofisticato, affinato da più di 20 anni, ma hanno anche l'enorme patrimonio rappresentato da che cosa cerca la gente online, e che è un patrimonio così grande che può rispondere in maniera con molti, molti dati alle spalle, può dire ma che ricerche si fanno in una certa specifica zona del mondo, che ne so, in Puglia o nelle Marche, in un certo momento dell'anno, quindi sono dati sufficientemente ricchi da poter dare indicazioni preziose per dire ma nelle Marche in primavera succedono certe cose che non sono proprio le stesse che capitano in Piemonte, allora questa ricchezza è una ricchezza strabiliante che un'ipotetica start-up brillantissima di giovani del Politecnico che hanno un'idea strabiliante per il miglior algoritmo possibile di ricerche web però non hanno i dati, non hanno questo straordinario patrimonio già acquisito e incamerato di ricerche su internet e la stessa cosa potremmo dirle di acquisti di oggetti online come Amazon eccetera eccetera ok? Queste imprese hanno gli esempi si moltiplicano una collaborazione molto stretta con i governi non soltanto col governo americano collaborazione tecnica in questi mesi stiamo parlando del cosiddetto cloud nazionale del governo italiano e si parla come partner di nuovo ci sono delle imprese pubbliche ma tipicamente in partnership o imprese con una partecipazione pubblica in partnership con appunto queste imprese americane quindi non soltanto collaborazione tra virgolette tecnica che anche quella ha dei profili su cui sarebbe opportuno discutere ma anche un pochino più come dire discutibilmente collaborazione per dar forma all'opinione pubblica ok? e ahimè per sorveglianza capillare nel senso che questi ultimi vent'anni non sono soltanto i primi vent'anni adesso siamo nel ventiduesimo del ventunesimo secolo sono anche i vent'anni del patriotec dopo l'11 settembre del 2001 che ha creato le basi per un fatto senza precedenti nella storia che è la sorveglianza di massa quindi nelle democrazie occidentali non era mai successo che tutti i cittadini venissero sorvegliati sistematicamente le loro telefonate le loro e-mail e così via dopo l'11 settembre questo è successo e noi lo sappiamo grazie in maniera come dire provata oltre a ogni ragionevole dubbio grazie alle rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 e questo continua continua tutt'oggi quindi l'emergenza terrorismo può essere sicuramente meno sentita meno impellente di quella che di diversi anni fa ma c'è nonostante ciò che fu introdotto sull'onda dell'emergenza terribili accadimenti dell'11 settembre in realtà rimane e di recente abbiamo anche visto alcune vicende che riguardano Europol quindi un'istituzione di polizia europea dove sostanzialmente la scelta politica è quella di non quella che qualcuno potrebbe ospicare ma incluso di ridurre questa sorveglianza di massa che ha tutta una serie di profili altamente problematici dal punto di vista democratica ma sostanzialmente di consolidarla ulteriormente e dar forma all'opinione pubblica chiarisco cosa intendo dire che visto l'enorme potere che hanno piattaforme come Facebook o Twitter di determinare che cose ha l'attenzione di miliardi di persone apri il telefono dai un'occhiata e ti vedi certe cose e non altre e succede perché c'è un algoritmo dietro che decide cosa farmi vedere ebbene la tentazione dei governi anche democratici anche occidentali è quella di dire carissimi voi che siete privati e che come privati potete fare liberamente tante cose cercate di far vedere di non far vedere certe cose piuttosto che altre tipicamente sono cose di cui tutti proviamo ovviamente orrore di cui intuiamo tutto il pericolo terrorismo ma anche cose potenzialmente più scivolose sono anni che sentiamo parlare di disinformazione e fake news questo è un terreno molto più complicato perché nel regime totalitario c'è il ministero della verità che decide che cosa è vero in democrazia la verità è un termine più complicato ok e quindi dire che certe cose sono vere e certe cose sono false è un terreno scivoloso non è una questione che non dobbiamo non è un tema che non dobbiamo trattare dico solo che è molto molto scivoloso perché se cominciamo ad avere un potere che dice ciò che è vero ciò che è falso c'è una zona le cose conclamatamente false siamo tutti d'accordo che sono false ma c'è una zona grigia importante dove in democrazia è bene procedere con estrema cautela e allora quello che abbiamo visto in questi anni è che i governi tendono a rivolgersi a queste grandi imprese sono poche quindi si fa anche in fretta a coinvolgerle e invitarle a dire ma sai che c'è quando qualcuno parla di un certo argomento scrivi che questa cosa è dubbia insinua il dubbio nelle persone fino a cose molto più esplicite cioè a bannare le persone e gli account che trattano di argomenti sensibili che non sono neanche magari lontanissimi dal terrorismo ma che in qualche modo sia piacere che non abbiano troppa facilità di diffusione scusate sono un po' vago poi c'è un corso specifico tenuto dalla professoressa Monaci dove sono sicuro che di queste cose parlerà però spero di aver dato almeno come dire il gusto del tema queste aziende rappresentano un'enorme concentrazione di potere non sono soltanto io a dirlo lo dice il presidente americano attuale lo dicono molti intellettuali molti politici anche in Europa quindi nulla di credo nulla di controverso nel sottolineare che c'è un'enorme concentrazione di potere quindi potere economico ma potere economico implica poi anche un potere politico rilevante in questo contesto forte subalternità dell'Europa e poi non parliamo dell'Italia che ha dei problemi suoi strutturali che non riguardano solo il digitale ma sono più generali in questi ultimi anni a livello di Unione Europea si è molto parlato e si parla di sovranità digitale è uno un po' delle parole chiave delle espressioni chiave del mandato della presidente Ursula von der Leyen dove però mi si è consentito dire a questo gran parlare di sovranità digitali non corrispondono affatto azioni dell'ambizione necessaria per cui si parla tantissimo di transazione digitale se ne è parlato molto anche per il cosiddetto Next Generation Europe da noi il cosiddetto PNRR ma se noi guardiamo cosa che non abbiamo il tempo di fare adesso ma se andiamo a vedere il digitale americano il digitale europeo registriamo un grande divario le big tech sono tutte quante americane eccetera eccetera e le azioni messe in campo fino adesso vanno nella direzione giusta per provare a attenuare questo divario ma non sono assolutamente della scala necessaria per realmente colmarlo e questo potremmo chiederci ma perché l'Europa ha disponibilità economica ha competenza scientifica quindi i soldi i cervelli ci sono e lo dimostriamo potrei dimostrarvelo in tanti modi quindi se in linea di principio potremmo ma poi nella pratica non mettiamo in campo le risorse necessarie perché non lo facciamo e in un altro contesto con altro tempo vi potrei provare a dire la mia risposta che non è chiaramente nessuna verità ma ovviamente occupandomi di queste cose mi sono chiesto ma perché la risposta che io ho articolata ci metterei vari fattori dentro ma penso che sia invece molto più facilmente dimostrabile che la subelternità europea c'è e quello che abbiamo messo in campo fino adesso non è sufficiente per eliminarla può attenuarla un po' ma non eliminarla allora che fare e ci avviamo alla conclusione e poi appunto al momento dal vivo all'interazione con voi le vostre domande gli approfondimenti del caso allora innanzitutto un messaggio generale che adesso vi dico nel contesto di questa lezione ma che vale per tutto nulla di umano è irreversibile ok il futuro non è scritto non vuol dire che il futuro può essere qualunque cosa ok non è che domani il futuro potrebbe essere radicalmente differente l'esistente ha creato un certo solco ok quindi la realtà fino a questo momento fino a oggi la realtà ha creato ha tracciato un solco noi siamo dentro questo solco e questo solco condiziona sicuramente tantissimo quello che possiamo fare domani un pochino meno quello che possiamo fare tra sei mesi un pochino meno quello che possiamo fare tra un anno tra cinque quindi c'è un cono di possibilità ok siamo in questo solco questo solco si può ampliare quindi quando dico nulla di umano è irreversibile vuol dire rifiutate coloro che dicono c'è solo un solco tracciato e questo solco ineluttabilmente è questo adesso per i prossimi cinque dieci venti trent'anni questo è falso non è neanche vero quelli che così un po' donchicettamente dicono che tutto è possibile perché no perché c'è la realtà che ci condiziona la realtà sociale la realtà ambientale la realtà economica e così via ci condiziona ma c'è uno spazio intermedio tra il niente può cambiare e il tutto può cambiare che è lo spazio che ci interessa ok su cui concentra la nostra attenzione ebbene alcune possibili azioni nella giusta direzione che mi sembrano sono sono possibili magari per alcune di queste ci vogliono vorrebbero anni di lavoro per arrivarci ma sono direzioni ragionevoli possibili ovviamente qualcuno potrebbe dirmi ma scusa qual è la giusta direzione cosa intendi per giusta direzione ovviamente tutto quello che vi ho raccontato oggi è la mia introduzione al digitale e qua proprio arriviamo se volete a proprio una mia posizione filosofica filosofico politica vi dico quindi quello che a mio avviso è la giusta direzione relativamente alla tecnologia e per me la giusta direzione relativamente alla tecnologia è voglio una tecnologia a servizio dei molti ok quindi qua recupero se volete una contrapposizione pochi molti che è sicuramente antica e che in tempi relativamente più recenti circa 200 anni fa è stata fatta sua dal poeta inglese scegli quindi molti vuol dire la maggior parte la maggioranza adesso la tecnologia tutte le tecnologie possono anche essere utili per i molti ma sono state spesso messe in campo e strutturate nell'interesse di pochi quindi tecnologia al servizio dei molti vuole anche dire anche tecnologie che potrebbero essere a molti utili a molti ma che in questo momento non vengono sviluppate perché non interessano a chi ha disponibilità economiche per metterle in campo quindi a questo alludo quando dico la tecnologia al servizio dei molti quella che serve ai molti non soltanto quelle che fanno molto profitto con l'obiettivo primario di restituire tempo alle persone cosa intendo con questo perché dico che è una posizione filosofica perché filosoficamente un dato fondamentale è che la nostra vita è finita e quindi il modo in cui impieghiamo il nostro tempo è una delle decisioni forse è la decisione fondamentale della nostra vita quindi come uso il mio tempo come uso il mio tempo finito e allora la tecnologia ed è uno dei motivi per cui sono orgoglioso di essere un ingegnere quindi qualcuno che progetta pensa sviluppa tecnologia è che la tecnologia è lo è già stata adesso ma lo potrebbe essere ancora di più in futuro uno straordinario alleato degli esseri umani per guadagnare tempo per risparmiare fatica per evitare gli infortuni per evitare le morti sul lavoro ma più in generale per guadagnare tempo tempo per vivere la nostra vita la tecnologia può aiutarci a guadagnare tempo questo è quello che mi interessa bene chiarito questo doverosamente credo in rapidissima carrellata e poi approfondiremo chi di voi segue il corso politica e tecnica ma penso anche in altri corsi controllo democratico della tecnologia quindi molto concretamente decidere democraticamente di tecnologie che hanno un potenziale impatto ampio sulla società o sull'ambiente o entrambe le cose qua salterei semplicemente per dire le conseguenze adottare prove e contro poi se decidiamo di adottare questa tecnologia definire i tempi modi contrastare gli impatti negativi monitorare gli sviluppi quindi abbastanza di buon senso e sottolineo però il se dobbiamo sempre preservare il diritto di decidere di non mettere in campo una determinata tecnologia in alcuni casi la discussione non è tanto decidere quando metterla in campo e come metterla in campo in alcuni casi magari anche pochi chissà ma la scelta giusta è non metterla in campo ok dobbiamo preservare questo diritto nell'etica di Aristotele si dice se ho la facoltà di fare qualcosa ho anche la facoltà di non farla e questa è una questione anche etica che dobbiamo porci due esempi diverse persone tra cui il sottoscritto sostengono che va bandito il riconoscimento facciale in spazi pubblici per tutta una serie di questioni che argomenteremo poi in un'altra occasione o nella discussione dal vivo e no le armi letali autonome non vogliamo macchine che in maniera completamente autonoma senza che un umano si prenda la responsabilità possa decidere uccido quella persona perché è una divisa di un certo colore perché ha una faccia di un certo tipo i diritti digitali lasciatemi qua semplicemente ricordare il lavoro fatto con Stefano Rodotà il sottoscritto e molti altri sulla dichiarazione dei diritti in internet pubblicata nel 2015 e tuttora di grandissima attualità tant'è vero che un'iniziativa analogo è stata appena presa dalla Commissione Europea e di ciò sono molto contento radicale azioni di diffusione del potere di queste imprese dominanti sicuramente quelle digitali che abbiamo già citato ma in generale delle imprese troppo grandi perché troppo potere economico si traduce in troppo potere politico e qua vi rimando salto questo vi rimando a una lezione molto bella tenuta da un nostro concittadino anche se da molti anni a Londra Tommaso Valletti che per biennale democrazia nel 2021 ha tenuto una bellissima lezione proprio in cui da esperto perché lui è un economista si occupa proprio di queste cose su cosa si potrebbe fare per ridurre queste concentrazioni di potere e quindi lascio la parola a lui trovate il link nel slide poi radicale rafforzamento della ricerca pubblica proprio per poter sviluppare la tecnologia che può servire a molti e che non viene sviluppata adesso dalle forze private del mercato e delle capacità cognitive organizzative e produttive dello Stato abbiamo bisogno anche che lo Stato si prenda carico di cose che sono beni pubblici di cui non si prendono carico invece gli attori privati e piccolo aspetto tecnico favorire soluzioni tecniche decentrate vi dicevo la computerizzazione del mondo sta venendo centralizzata favorire soluzioni tecniche decentrate diffuse federate tema molto ampio con appunto una componente tecnica importante che non possiamo affrontare adesso e poi ultimo nutrire l'immaginazione lo slogan di questi 40 anni dal 79 80 è stata una famosa frase cara al primo ministro britannico Margaret Thatcher che è non c'è alternativa there is no alternative l'acronimo è Tina 20 anni dopo il World Social Forum propose un altro slogan diametralmente opposto un altro mondo è possibile quindi le alternative sono possibili allora lasciate che faccia una permutazione di questo slogan dice un altro mondo digitale è possibile lo smartphone potrebbe essere diverso la computerizzazione del mondo ammesso di volerla fare e non e potremmo discutere su come farla ma sicuramente potremmo farla non centralizzata eccetera eccetera e in questo ruolo gli ingegneri informatici gli informatici in genere tutti quelli che hanno competenze informatiche hanno un ruolo molto importante perché le competenze servono a nutrire un'immaginazione sensata non fare voli pindarici ma dire questo sarebbe concretamente possibile o potrebbe esserlo tra un anno o due se facessimo X o Y quindi c'è un ruolo specifico e una responsabilità specifica dei tecnici in nutrire questa immaginazione quindi noi tecnici abbiamo il dovere di mettere a servizio la collettività e non solo dell'impresa la nostra capacità di immaginare la tecnologia bene mi fermo qui spero di essere riuscito a darvi alcuni elementi su questo tema così importante così gigantesco come la grande sfida rappresentata per il digitale subito oggi nella nostra attualità e sicuramente per parecchi anni a venire e a questo punto concludo questa parte registrata andiamo dal vivo e poi soprattutto vi affido simbolicamente ai docenti che terranno i quattro corsi di questa sfida grazie per l'attenzione a tra poco grazie per l'attenzione